Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di seminari tecnici gratuiti a sostegno dell'imprenditoria femminile edizione 2014. Oggi, come sapete, abbiamo il seguente argomento, dall'in-sinking and change and coach, come ridurre i costi creando valore per il cliente. A parlarcene sarà Claudio Curcio, di cui poi Elena farà la presentazione. Quindi benvenuti, vi porto il saluto del segretario generale Mauro Gianattaggio e del presidente Paolo Govoni. Abbiamo qui in prima fila anche la presidente Cisella Ferri, che dopo la pausa porterà un saluto e una testimonianza. Però, ecco, oggi ce l'abbiamo già da inizio seminario. Abbiamo anche un'altra componente del comitato, che è Caterina Paparella, che rappresenta il settore artigianato. Buonasera. Quindi, cosa vi posso dire? Questa edizione ha avuto molto successo, ha avuto, come scrivevo oggi, un'impennata di presenze, anche maggiori rispetto alle edizioni precedenti. E di questo ovviamente siamo contenti. In questa introduzione vi darò tutta una serie di informazioni. Come avete visto in cartellina, vi abbiamo messo il Deplian relativo a un evento che ci sarà l'11 di dicembre, alle ore 15, qui in sala conferenze. Si è ritenuto di creare un evento di presentazione delle start-up innovative ferraresi, perché bisogna, giustamente, si è ritenuto di dare visibilità a queste realtà che in realtà a Ferrara ci sono. Su Ferrara abbiamo circa una ventina di queste imprese. Come potete vedere c'è un programma dettagliato di interventi e quindi siete calorosamente invitati a essere presenti. Scherzando, volevo dirvi che l'attestato vi sarà rilasciato solo se sarete presenti all'evento dell'11 dicembre, ma non vorrei che sembrasse un piccolo ricatto. Però, diciamo, valutate voi. Detto questo, quindi, ecco, a questo proposito potete andare sul nostro sito, c'è proprio la notizia in prima pagina e c'è da effettuare l'iscrizione online. Quindi, mi raccomando, non indugiate, ecco. Non rimandate domani quello che potete fare oggi. Benissimo. Detto questo, adesso darò la parola a Lucia, che è una ragazza che sta facendo una borsa di studio presso di noi, per presentare un progetto che attualmente è in corso presso la Camera di Commercio, che si chiama Made in Italy, Eccellenza in Digitale. Dopodiché non mancherà l'intervento di Elena Pergreffi. Grazie. Grazie, Vittorio. Buonasera a tutte. E, come ha detto Vittorio, mi occupo qui in Camera di Commercio insieme ad un altro collega, Daniele Borrelli, di questo progetto che si chiama Made in Italy, Eccellenza in Digitale. Ed è un progetto organizzato da Google Italia ed Union Camere, ed è diffuso in tutta Italia, in 52 Camere di Commercio. È un progetto rivolto alle aziende artigiane italiane che producono prodotti Made in Italy e qui a Ferrara è stato scelto il settore dell'agroalimentare. Quindi tutte le aziende dell'agroalimentare che producono prodotti tipici Made in Italy, se hanno voglia di partecipare al progetto, fuori abbiamo lasciato dei volantini con tutti i nostri contatti. Ma cosa facciamo con questo progetto? Intendiamo dare un aiuto, una consulenza, un avviamento all'impresa per creare o migliorare la propria presenza sul web e comunicare la propria immagine, i propri valori aziendali e quindi promuovere l'azienda e i prodotti Made in Italy a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Inoltre Union Camere il 9 dicembre lancerà una piattaforma che si chiama Italian Quality Experience e questa piattaforma verrà utilizzata durante l'expo. E quindi tutte le aziende dell'agroalimentare potranno iscriversi in questa piattaforma per essere presenti, almeno virtualmente, all'expo 2015 a Milano. Quindi per qualsiasi informazione trovate tutti i nostri contatti nel volantino ma anche sul sito della Camera di Commercio. Tutto qui. Grazie. Grazie Lucia. Adesso do la parola ad Elena Pergreffi che è qui in rappresentanza di FOA che è il nostro partner progettuale. Grazie Elena. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, a tutti. Benvenuti all'ultimo seminario di questo ciclo dedicato all'imprenditorialità e alla managerialità offerto come sempre dalla Camera di Commercio di Ferrara in collaborazione con il Comitato per la promozione dell'imprenditorialità femminile al territorio provinciale. Questo è l'ultimo dei tre temi che il Comitato ha scelto quest'anno per voi. È un tema molto interessante, molto tecnico, soprattutto molto cogente, molto alla page perché di questi tempi tantissimo, tanto si parla e tanto viene fatto in termini di lean organization. Quindi proprio in questi tempi di riduzione e contrazione dei ricavi, lavorare sui costi, lavorando quindi cercando di ridurre i costi ma migliorare, snellire i processi aziendali, quindi recuperare efficienza e reddittività è molto importante per l'azienda ed è molto importante per l'impatto che poi questo ha sul cliente finale. Quindi attraverso la generazione del valore anche il cliente finale ne ha un beneficio e quindi le aziende sono sempre più chiamate dal mercato a lavorare sul controllo dei costi. Quindi un tema assolutamente interessante che sarà sviluppato da Claudio Curcio. Prima di dire due parole su Claudio che poi lui ovviamente integrerà a piacere, ovviamente ho anche il piacere di presentarmi e di presentare i FOA. I FOA è l'ente dell'istituto di formazione operatori aziendali che ha sede a Reggio Emilia e che è nato più di 40 anni fa dentro la Camera di Commercio di Reggio Emilia, quindi come azienda di servizi della Camera di Reggio Emilia, è partecipato dalla Camera di Reggio Emilia ma dall'intero sistema camerale dell'Emilia Romagna e anche da ogni Camera nazionale. Noi ci occupiamo di formazione a tutti i livelli, quindi per i ragazzi che devono entrare nel mondo del lavoro attraverso dei corsi estremamente specialistici, attraverso dell'esperienza anche in azienda, ma ci occupiamo anche di tutto il sistema aziendale attraverso la progettazione su misura di percorsi formativi per i quali cerchiamo anche ovviamente dei canali di finanziamento e quindi per cercare di rispondere ai bisogni formativi specifici delle imprese oggi, quindi di quello che oggi le imprese hanno bisogno sul mercato. Facciamo tirocini formativi, lavoriamo nell'ambito dell'apprendistato, realizziamo anche progetti europei e internazionali. Allora, presento Claudio direi nel ricordarvi che ci sarà una pausa intorno alle 5 di un quarto d'ora e 20 minuti e nel ricordarvi anche che nella cartellina oltre al materiale avete una scheda di valutazione ovviamente del seminario, abbiamo piacere che ci diciate come vi è sembrato. Lascio la parola al docente, Claudio Curcio è socio fondatore di Queo Consulting, una società che ha sede a Reggio Emilia e che si occupa di consulenza di impresa, consulenza strategica e organizzativa. Opera in tantissimi ambiti aziendali, quindi le operation, ma anche l'information technology, le risorse umane organizzative, il marketing. Claudio ha un'esperienza di tantissimi anni proprio nell'ambito delle operation, nell'ambito della real organization, nella revisione organizzativa delle aziende, lavora anche ovviamente esperto di project management e lavora nell'ambito dello sviluppo di progetti aziendali. Tutto bene, mi ero dimenticato un'altra notizia che sempre nell'ambito dell'iniziativa e sostegno dell'imprenditoria femminile, il primo dicembre apre un bando che è il repertorio buone prassi per le imprese femminili, diciamo non ci sono in ballo delle risorse finanziarie ma l'obiettivo è quello di raccogliere delle testimonianze, ecco, delle buone prassi sia nell'ambito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro sia nell'attenzione alle norme sulla sicurezza e sulla salute negli ambienti di lavoro. Anche questo bando lo trovate sul nostro sito, nella pagina dedicata all'imprenditoria femminile, un bando che sarà aperto dal primo dicembre al 30 maggio 2015. Dimenticavo di dire che l'iniziativa in collaborazione con la consigliera di parità della provincia di Ferrara, Donatella Orioli, pare sia essere una delle prime iniziative dove vede la collaborazione tra Camera di Commercio e consigliera di parità. Ecco, mi ero dimenticato di dare questa notizia. Adesso finalmente diamo la parola al nostro docente, grazie. Faccio anche a meno, eh. No, dimenticavo questa nota tecnica. Ovviamente ci sarà l'esposizione del docente. Nel momento in cui qualcuna di voi ritiene di intervenire, alza la mano. Io mi avvicino col microfono e solo dopo esponete il quesito o la considerazione. D'accordo? Siamo tutti d'accordo? Grazie. Se no niente diploma, eh. Buongiorno a tutti e a quell'uno o due che ci sono infiltrate. Claudio Curcio, io sono purtroppo da tanti anni che sto facendo consulenza di organizzazione aziendale e sono sempre stato a metà strada perché ho sempre fatto un po' di azienda, un po' di consulenza, un po' di azienda, un po' di consulenza ricoprendo ruoli da direzione operation, direzione generale, R&D, ricerca e sviluppo e ormai sono diversi anni, l'acquendolo costituita nel 96, sono diversi anni che pur continuando a fare ogni tanto un po' di temporary management nell'impresa, manteniamo viva il mondo della consulenza e l'organizzazione aziendale. Dico questo perché c'è una piccola caratteristica nostra come società di consulenza che essendo stati anche dall'altra parte della barricata, quindi all'interno delle imprese, come compratori di consulenza, conosciamo vizi, pregi, difetti e come vengono percepiti i consulenti in azienda e non ci piace essere percepiti in quel modo lì. Per cui il nostro approccio è un approccio sempre molto operativo, fattivo, siamo spesso e volentieri, mi vedete in giacca e cravatta perché è la prima volta che vi vedo, ma normalmente siamo con la tutta in fabbrica insieme agli operaia a mettere a posto le linee produttive o quant'altro, perché poi lo vediamo, c'è solo un modo per gestire il cambiamento che è quello di mettersi lì e farlo, poche chiacchiere. Se volete per davvero che le cose succedano, datevi da fare e non aspettate che gli altri vengano a risolvere i problemi in casa. Per cui il cambiamento vero organizzativo che succede nelle imprese, e dunque oggi vi farò una piccola carrellata su quelli che sono gli approcci strategici dell'eccellenza organizzativa, fondamentalmente sono tutte imprese che venivano fuori da un mondo di crisi, che per fortuna è quello che stiamo vivendo noi in questo periodo, e da quella situazione di crisi ne hanno saputo cogliere delle straordinarie opportunità di cambiamento vero, drastico, cambiando il loro modo di lavorare. Allora, io mi aspettavo una cosa un po' più piccolina, un po' più raccolta con molto dialogo, per cui avevo preparato una presentazione, il mio intervento era diviso in due grossi pezzi. Un primo pezzo che è legato agli aspetti, i principi di base dei contenuti dall'in-thinking al changing coach, come l'abbiamo chiamato l'intervento, nel quale presento un po' gli approcci organizzativi e quali sono le differenze tra i vari sistemi, il Toyota, il Lean, il World Class Manufacturing, il change coach, sono i sistemi di organizzazione eccellente che oggi si vedono. Lasciando poi nella seconda parte dell'intervento, a questo punto dopo la pausa a caffè, volevo far vedere come le cose sono successe in tre aziende. Invece di stare lì a raccontarvi degli strumenti, farvi vedere direttamente come questi strumenti sono stati applicati in realtà aziendali. Sono realtà manifatturiere. Abbiamo anche case history di società di servizi, società di information technology. Perché abbiamo preferito scegliere il mondo del manifatturiero in particolare? Sono tre impiantistiche diverse. Perché poi alla fine quasi tutti i processi sono facilmente accorpabili una logica di montaggio. Se anche sto pensando a un servizio di assistenza alle persone, di fatto tu stai montando intorno alla persona, stai montando delle attività, dei servizi che tu devi andare a fare. Allora, poiché le logiche di ringraziando il cielo sono sempre le stesse, perché le organizzazioni vivono in questo modo, vedere degli strumenti, che una cosa molto più facile, dove stiamo parlando di pezzi di ferro che dobbiamo montare uno accanto all'altro, piuttosto che vederli su un servizio, piuttosto che una società di formazione nella quale si va a fare attività di sviluppo delle persone, quindi sviluppo delle risorse umane, è molto più difficile in questa seconda fase perché le cose di cui parliamo sono intangible, non si toccano. Il pezzo di ferro lo capisci, chi lo deve prendere e lo deve montare. Una competenza fa fatica a capire come prenderla e montarla dentro la testa di una persona. I meccanismi sono gli stessi, gli strumenti operativi sono leggermente diversi, ma i principi di base sono gli stessi. Per cui io ci provo. Quando prima diceva chi ha voglia di intervenire siete ben accetti, tutti. Mi aspettavo meno persone e più interazione, comunque va bene lo stesso. Allora, ho incominciato dicendo che abbiamo la grande opportunità che siamo in un periodo di crisi. Io so che sono percepito male quando dico una cosa del genere, però è vero, come ci disse Albertone qualche tempo fa, in una situazione di crisi tu puoi uscire in maniera eccellente se incominci a capire quali sono le cose che all'interno della tua realtà stanno per davvero portando alla crisi. Ci sono situazioni nelle quali le crisi diventano elemento di distinzione, un esempio su tutti, in questi giorni sta girando qui per le mie romagne il Circo Soleil. È diventato un case history di come in una situazione di crisi profonda che il Circo aveva, ne ha colto l'opportunità della crisi della presenza degli animali, delle piste e l'ha fatta diventare una grande opportunità perché ha fatto diventare il primo Circo spettacolo senza animale, diventando un caso unico che adesso sta incominciando da tirare in un mondo completamente diverso. Essendo unico si è anche potuto permettere il lusso di avere dei prezzi che sono drasticamente diversi dai prezzi del Circo Orfei. Orfei oggi ti dà i biglietti per entrare gratis, Soleil devi pagare 30-40 euro per poter entrare a seguire lo spettacolo. Notate come questo meccanismo di crisi in persone che hanno saputo giocare, come diceva Alberto il tempo fa, che hanno saputo giocare un cambiamento drastico del loro comportamento. Le cose non si cambiano alla vecchia maniera. Per poter cambiare le cose devi cambiare il modo di lavorare. Io dico sempre in un circolo vizioso. Come si fa a far diventare un circolo vizioso o far diventare un circolo virtuoso? Domanda, e a questo punto a voi la risposta. In un circolo vizioso, farlo diventare circolo virtuoso, cosa devo fare? Cambiare direzione. Dico bene? E come si fa a cambiare direzione? Sono in un circolo, sto camminando, mi devo fermare, devo girarmi a 180 gradi, attenzione non a 360, perché i cambiamenti a 360 gradi, vi faccio vedere i cambiamenti a 360 gradi, sto camminando, cambio a 360 gradi. Questo è il cambiamento a 360 gradi. Per far diventare un circolo vizioso, farlo diventare virtuoso, il cambiamento è a 180 gradi, devi invertire la direzione. Per farlo devi fermarti e pensarci. Chiaro? Cambiare, ed è il primo vero meccanismo del processo di innovazione, di miglioramento, di eccellenza organizzativa, cambiare vuol dire incominciare a pensare a quali sono le opportunità che esistono dai problemi che tu stai vivendo ogni sacrosanto giorno. Proviamo a vedere entrando un po' in merito ai temi. Siamo tutti d'accordo che esiste un legame stesso fra la competitività e il valore per il cliente e la riduzione dei costi. Siete d'accordo su questo aspetto? Siamo competitivi se il cliente ci compra e noi ci guadagniamo. Il cliente ci compra se apprezza, se riconosce in noi del valore, noi guadagniamo se spendiamo meno di quello che ci dà il cliente. Meccanismo molto semplice, non è difficile. Perché allora non siamo sempre competitivi? Siete mai posti la domanda del perché non siamo sempre competitivi? Perché è facile raccontare che siamo pieni di costi. Molto meno facile raccontare che siamo scarsi nel valore. I principi che adesso andremo a vedere, che parlano di eccellenza organizzativa, hanno come obiettivo andare a massimizzare il valore minimizzando i costi. Perché purtroppo la linna viene troppo spesso associata a un concetto di saving e quando parliamo di saving nella testa di tutti parte il principio del taglio dei costi. Purtroppo raramente il principio della linea dell'eccellenza organizzativa vengono percepiti come lo strumento per raggiungere il valore. Il circo Soleil ha toccato del valore. Ha identificato un qualche cosa che il cliente ha percepito come valore talmente straordinario da essere disposto a pagare tre volte la cifra di uno dei tanti circhi che ci stanno in giro. I costi sono più o meno gli stessi. Provate a immaginare il margine che rimane in tasca al signor Soleil. Allora provare a ragionare su che cos'è valore e cos'è riduzione dei costi. Cominciamo con un principio che è questo. Se parliamo di valore o se parliamo di costi, ultimamente esce molto il concetto dello spreco. Che cos'è lo spreco? Siete mai posti la domanda che cos'è uno spreco? Quello che non serve? Quello che non serve? A chi? La domanda è a chi non serve? Lo spreco è quello che non serve al cliente. Entriamo in questa percezione strana del concetto di spreco che è quello che non serve al cliente. Nel mondo della pubblica amministrazione ci si diverte da matti ultimamente a parlare di sprechi. Peccato che fanno fatica a capire chi è il cliente. Allora se io non riesco a capire chi è il cliente come faccio a capire qual è lo spreco? Perché è spreco tutto quello che il cliente non è disposto a pagare. L'amministrazione in un'azienda è valore o è spreco? Il cliente sarebbe anche molto contento se non esistesse l'amministrazione. Trovate o no? Perché non ci sarebbe qualcuno che sta lì a chiedergli costantemente l'incasso. E quindi incominciamo a capire che il cliente per come lo andremo a interpretare noi non è solo il cliente finale ma il cliente è quello che in anglosassone viene definito lo stakeholder cioè colui che in qualche modo ha a che fare con l'azienda che siano gli azionisti che siano i dipendenti che siano i fornitori che sia il territorio e ognuno di questi riferimenti diventa di fatto un cliente dell'azienda della struttura dell'attività che state mettendo in piedi perché ognuno di questi tecnicamente vi può comprare perché percepisce in voi qualcosa di utile. La green economy vive squisitamente sul fatto che il cliente è il territorio. chiaro. Quindi il meccanismo del concetto di spreco è che se io riesco a capire qual è il valore per il cliente riesco anche a capire che cosa in azienda posso non fare più, nel mio attività posso non fare più perché il cliente non è disposto a pagare. E allora l'elemento chiave di tutta quanta la faccenda non è ridurre i costi ma è ridurre i sprechi. Spesso quando parlo di lean, perché il concetto di lean è legato alla snellezza, al dimagrire, alla pancia, io ringraziando il cielo ce ne ho abbastanza, no? Allora spesso faccio il confronto e dire sono lean se dimagrisco. Sono lean, poi incominciano ad esserci questi processi straordinariamente carini che dicono ah bisogna misurarsi, bisogna misurarsi, per cui sono lean se io perdo dei chili. Faccio uno straordinario saving, mi taglio una gamba, ho perso 10 chili. Se incomincio a lavorare in termini KPI, ormai si usa paroloni che avete sentito parlare ultimamente, se io lavoro solo sugli indicatori, l'indicatore della mia snellezza dice che se io perdo 10 chili sono diventato snello, qual è il modo più semplice? Mi taglio una gamba. In termini di impresa si chiama outsourcing, no? Perché un pezzo dell'impresa io la prendo e la leo. Va benissimo se sono 10 chili di pancetta che riesco a tirare fuori, va molto male se sono 10 chili di una gamba che a me servono per correre. So se è chiaro la differenza tra costo e spreco. E spreco quello che non serve e investimento quello che mi serve. Quindi io devo eliminare gli sprechi perché sono quelli che non mi producono ricavi e devo massimizzare i costi che mi producono ricavi. chiaro? C'è un signore che un po' di tempo fa disse che la fortuna aiuta le imprese che sono meglio attrezzate. Tanti anni fa, prima più o meno in quel periodo lì, quando ancora non si parlava di Toyota Production System, non si parlava di Lean, pochi erano quelli che avevano sentito parlare di strumenti di questo genere, si parlava molto in termini di qualità totale, si parlava molto in termini di just in time, si parlavano di tutte queste cose straordinarie, no? Una delle osservazioni che si fece a quel tempo è che un'azienda di successo ha un comportamento nei confronti del cliente analogo a quello che aveva l'artigiano di una 40, adesso ormai 50, 55, di qualche anno fa. Se voi avete in testa, e qui nel ferrarese ce ne stavano di begli artigiani che lavoravano bene, di quelli che una volta venivano lavoravano il ferro battuto, i cancelli in ferro battuto, ognuno di quelli è un prototipo. Nessuno si è mai sognato di fare i cancelli in serie, no? A quei tempi si lavorava tutto in modo completamente diverso. L'atteggiamento che aveva l'artigiano di allora, anche se era piccolo, qual era? Era quella di un totale ascolto del cliente per capire le esigenze del cliente e usare le proprie competenze per cercare di massimizzare il valore che il cliente percepiva, guadagnandoci il giusto perché poi si facevano pagare. Questo tipo di atteggiamento purtroppo si è perso. Riuscire a rivedere il cliente con l'atteggiamento che aveva l'artigiano serio di qualche anno fa, è il modo con il quale invece alcune imprese, Toyota su tutte, ha da sempre fatto. Perché l'azienda è eccellente? Certo, è eccellente perché se io continuo a guardare, ad ascoltare quello che il cliente vuole e faccio quello che il cliente chiede, il cliente mi compra. Se il cliente mi compra, io cresco. L'equazione è semplice, la parte difficile è decidersi di fare quel piccolo passo, fermarsi e girare a 180 gradi e cominciare a camminare in quella direzione. Perché purtroppo noi siamo pressati, sempre e comunque, da una quantità di agenti esterni al nostro volere che ci costringono a volte a fare delle cose sbagliate. Allora, vediamo un po' di capire che cosa significa attrezzarsi per poter difendersi fondamentalmente da questi agenti esogeni che ogni sacrosanto giorno ci bloccano, ci frenano, ci disturbano nel nostro pensiero e non ci fanno tornare a essere quei bravi artigiani di una volta che riuscivano a gestire in maniera intelligente ed economicamente conveniente il proprio business. Questo funziona, sì. Allora, parliamo, come dicevo prima, la mia idea è di darvi alcune definizioni, principi, stiamo parlando è un momento di informazione e formazione ed è più un'informazione di tipo principi generali dei tre grandi approcci che sono TPS, il Toyota Production System, il Lean, il Work Class Manufacturing e quello che noi, perché il nostro, riteniamo il più bello di tutti che è il change in coach. Poi vi spiego perché il concetto di change in coach nasce. Allora, fondamentalmente, un aneddoto, abbiamo avuto la fortuna, la bravura, l'opportunità raccolta, chiamiamola come vogliamo, di aver lavorato con tutti e tre. Noi siamo stati quelli che hanno lanciato in Toyota Italia, prima che Toyota Italia diventasse Toyota Italia, abbiamo lanciato progetti Lean in Toyota, è uno dei tre esempi che vi faccio vedere oggi, è il progetto che insieme a Toyota abbiamo fatto lì da loro. Conosciamo il modello di Toyota dall'interno, conosciamo il Work Class Manufacturing ed è un altro dei progetti che vi facciamo vedere, perché intorno nel 2000, in un'azienda fornitrice di Tetra Pak, Tetra Pak quelli di Brick, Tetra Pak aveva lanciato dei gran progetti Work Class Manufacturing, c'era da decidere o saliamo sul carro o addio Tetra Pak, salimmo sul carro e adesso è il fornitore numero uno di Tetra Pak. Esistono dei modelli abbastanza interessanti, per finire con Lean, dove il progetto Lean che ha lanciato un pochettino il Lean in Italia, che è il progetto Ducati, è stato fatto da due miei collaboratori colleghi. Conosciamo il processo, tutti e tre i modelli li abbiamo conosciuti, imparati, gestiti nel corso degli anni dall'interno. Per cui l'esercizio che noi abbiamo fatto, poi qualche capello bianco e qualche piletto bianco della barba, sono parecchi anni che ci stiamo lavorando su questi temi, ci ha portato a pensare a un modello un pelino diverso, abbiamo cercato con la logica del Change & Coach di raccogliere il meglio dei tre modelli. Nessuno dei tre, in particolare quello Toyota è facilmente ripetibile. Un aneddoto su tutti del mondo Toyota, quando abbiamo scritto il libro Change & Coach, ho fatto un po' di ricerche bibliografiche e trovo un aneddoto molto carino, di quando dovete sapere che Toyota all'inizio del loro processo, della loro azienda, al fine degli anni, al fine e il mitico Toyota, il fondatore di questa società, è stato quello che ha progettato e costruito il primo telaio che si fermava alla rottura del filo. Stiamo parlando di zero difetti, è il primo case history ufficialmente riconosciuto del principio di zero difetti all'interno del mondo Toyota. Dopo qualche anno gli furono rubati tutti quanti i disegni. I suoi manager preoccupati e lui che in maniera molto serena diceva, ma di che cosa vi preoccupate? Mentre colui che ci ha rubato i disegni riuscirà a capire come realizzare il nostro telaio, noi nel frattempo avremo fatto tante di quelle modifiche che sarà sicuramente un telaio superiore. E questo è il motivo per cui fai fatica a pensare che il mondo Toyota possa essere clonato, tra virgolette, a una realtà diversa. Perché allora è dalla fine dell'Ottocento che i manager di quell'impresa sono stati selezionati con questo DNA. Per cui per poter raggiungere, non è che è raggiungibile, è tutt'altro, ma per poter raggiungere quella completezza, consapevolezza del mondo Toyota hai bisogno di generazioni che imparano a muoversi in un certo modo. Gli altri due modelli, lì nel world class, sono due modelli che nascono con la crisi degli anni Ottanta, la prima crisi qualcuno di noi se lo ricorda quando si andava, l'austerity che si andava in bicicletta il weekend, con la prima crisi dell'automobile dove il mondo dell'automobile è andato male e le grandi imprese americane produttrice di automobili si trovarono in crisi. Come mai noi perdiamo e la Toyota guadagna? Le due cose lo vedremo, sia il Lean che il World Class, il Lean nasce proprio da un progetto di ricerca che il MIT chiese di fare sul mondo Toyota, per capire perché loro guadagnavano e la General Motors no, e il mondo del World Class Manufacturing va a vedere come mai un'azienda come Sony, che era, io ho a casa una radiolina Sony, che erano le radioline usa e getta, erano tipo i cinesi di oggi, la radiolina Sony, come mai la radiolina Sony negli anni Ottanta aveva incominciato a tirare fuori il Black Trinitron, i vecchi televisori Sony, aveva incominciato a fare questi grandi processi, è stata la prima al mondo a fare la garanzia a tre anni. E i signori del World Class Manufacturing andavano a fare lo studio del come mai queste eccellenze giapponesi in un mondo del genere riuscivano a guadagnare e come mai il mondo del bianco occidentale stava fallendo. Quindi vedete che sono tutti i momenti di crisi che hanno generato degli elementi di eccellenza. Nel fare questa ricerca abbiamo trovato una crisi un po' antecedente a quelle attuali ed è una cosa che ci divertiamo perché posso dire con orgoglio che l'Inn l'ha inventato l'Italia. Il mondo delle organizzazioni eccellenti sono nate negli anni Cinquecento a Venezia. Dovete sapere che l'arsenale di Venezia è stato ufficialmente la prima impresa per come oggi è considerata. Aveva quasi tutti gli abitanti di Venezia e di Venezia che lavoravano lì da loro. Una realtà straordinaria e anche lì una crisi ha costretto il sistema arsenale a cambiare approccio lavorativo e a creare le linee di flusso. Le linee di montaggio, la prima linea di montaggio è stata il canale dell'arsenale di Venezia. Prima e ancora adesso spesso le navi vengono allestite in bacini che vengono svuotati, vengono costruiti e viene allestita l'intera nave a secco come viene definita. Poi lo vedremo. C'è stato un momento importante che tra l'altro è il motivo per cui non abbiamo la barba lunga da talebano che grazie all'arsenale di Venezia ci ha garantito l'esistenza di un mondo non musulmano nell'occidente. Lo vediamo in sequenza completa. Qual è l'elemento chiave del mondo dell'eccellenza organizzativa in logica arsenale. L'arsenale è stato un esempio di eccellenza navale dal 1400 fino all'arrivo di Napoleone. Napoleone ha definitivamente svuotato tutto l'arsenale e l'ha sostanzialmente fatto morire. Queste cose le abbiamo scoperte perché qualche anno fa facevamo un bellissimo convegno nell'arsenale di Venezia e ci dettero come Cicerone all'interno dell'arsenale per la visita guidata con i nostri partecipanti, ci dettero un vecchio ammiraglio dell'arsenale ormai in pensione che si divertiva a raccontare queste cose andando in giro. Avendo partecipato la mattina al convegno con noi e avendo sentito che cos'era il lean, che cos'era il world class, cosa vuol dire fare una linea flusso o quant'altro, a lui si sono aperte delle scatole di memoria straordinarie e ci ha incominciato a raccontare tutto il processo industriale dell'arsenale e da lì è nato questo studio che poi in parte è riportato nel libro, in parte sta nei nostri computer e ci divertiamo da matti e che fondamentalmente ti accorgi che l'arsenale è stata la prima azienda ad avere una organizzazione a livello funzionale. Ha cambiato il mondo dell'artigiano, ha trasformato l'artigiano in impresa. Dal faccio tutto io esistono delle funzioni specifiche, definite, determinate, identificate. C'è stato un ampliamento strutturato e organizzato. Per farvi un'idea di come avesse strutturato l'intera catena di fornitura, i boschi cedui, quelli nei quali fai crescere gli alberi per il taglio, erano destinati a parti delle navi, per cui gli alberi crescevano in dime in modo tale che non dovessero essere poi piegati dopo il taglio. La chiglia, il pezzo, il ramo centrale, era un albero fatto crescere con dime già in preformate in modo tale che veniva semplicemente tagliato e inserito dentro la nave senza bisogno di avere quel processo complesso di piegatura. Provate a immaginare che cosa vuol dire in termini di pianificazione. Far crescere un albero per poter ottenere una dimensione sufficiente per fare la chiglia di una galea, stiamo parlando di 30 anni, 20 anni, 30 anni. Quindi io 30 anni prima dovevo pensare che quella zona era destinata alle chiglie e quell'altra destinata alle tavole. Erano altri tempi di pianificazione, gli orizzonti temporali erano un po' più lunghi, però il cantiere aveva raggiunto una grandezza tale da farlo diventare la realtà, forse una delle più importanti, sicuramente in Italia la più importante realtà produttiva. E in particolare era universalmente riconosciuto la qualità della lavorazione dell'arsenale di Venezia. Perché questa storia sull'arsenale? Perché nel 1500, cos'era? Nel 1571 ci fu la famosa battaglia di Lepanto che è quella che ha segnato l'esistenza del cristianesimo in Occidente. La ricordate tutti quanti, no? La mitica battaglia di Lepanto fu vinta perché in meno di un anno, in meno di due mesi, se non ricordo male, esatto, in meno di due mesi fu possibile costruire, grazie al nuovo processo industriale che aveva messo in piedi l'arsenale di Venezia, fu possibile costruire circa un centinaio di galee, di galeazze, per dire la verità, armate, che fecero la differenza nella battaglia navale nella quale gli occidentali, i cristiani, riuscirono a sconfiggere i musulmani. Ok? Che cosa rese possibile è questo? A. La crisi. B. L'intelligenza di chi in quel momento stava lì e decise di partecipare a questo bando di gare, a questo tender pubblico, nel quale era possibile fornire cento navi al papato. Che cosa si inventò l'allora ammiraglio gestore dell'arsenale di Venezia? Si inventò che invece di allestire l'intera nave in bacino a secco, fece i primi canali interni dell'arsenale e fece arrivare finita la calata fraura, cioè il rendere sicuro lo scafo, quindi che non si riempisse d'acqua, mi pare, sfugge il termine tecnico. Una volta reso impermeabile lo scafo, invece di rimanere lì bloccando il centro di lavoro, lo faceva fluire lungo un canale, secondo una sequenza di montaggio, di allestimento, che oggi chiamerei montaggio, dove in ogni postazione, con quelle che oggi vengono chiamate all'isca di pesce, in schema all'isca di pesce, ogni postazione aveva la bocca che scaricava il materiale all'interno della nave e sulla nave c'erano gli operai che allestivano la nave. In un processo del genere ha reso possibile che con una decina di postazioni di preparazione dello scafo, in sequenza, oggi verrebbe detto just in sequence, in logica just in sequence la nave entrava e usciva. E così come oggi si fanno dei grand show, anche allora gli Arsenolotti fece un grand show, invitarono il re di Francia e gli montarono una galeazza in due ore. I show sono sempre, poi noi italiani siamo particolarmente bravi in queste cose. Quindi il meccanismo è stato cambiare in maniera molto semplice il processo perché in una condizione di crisi, in logiche normali, non puoi fare cose straordinarie. Se vuoi fare una cosa diversa dal solito, se la fai come al solito, non la fai. Non è diversa. Chiaro? Cosa vuol dire tutto ciò? Primo, incominciamo a parlare di flussi, incominciamo a parlare di organizzazione, incominciamo a parlare per la prima volta di supply chain in senso ampio. Con una osservazione molto importante. Il meccanismo con il quale loro avevano impostato l'intera struttura di montaggio della nave aveva una sequenza logica del montaggio che garantisse la completezza dell'allestimento. Per cui era stata fatta una progettazione della sequenza corretta del montaggio per garantire l'eliminazione degli sprechi. A volte, quante volte, montandola in mobile dell'IKEA ti accorgi di aver fatto un errore di doverlo rismontare. Spreco. Tutte le volte che ho montato una cosa la devo smontare tecnicamente è spreco. La logica dell'organizzazione significa dire io devo trovare il modo per evitare che quelle cose le tocchi più di una volta. Ed erano talmente bravi che avevano creato i depositi di linea, i depositi di postazione, oggi si chiamerebbero i magazzini bordoline. Nel magazzino bordolinea veniva portato il materiale per cui l'allestimento, vista di prelievo, del magazzino diventava automatica. Non so se è chiaro il percorso. Invece di avere un magazzino centrale dal quale andare a prelevare, io destinavo direttamente il materiale nel magazzino bordolinea per cui riducevo il numero dei magazzinieri. Ogni volta che tocca il materiale è un costo che il cliente non è disposto a pagare. Voi siete disposti a pagare per i magazzinieri dei vostri fornitori. Quindi il passaggio è la sincronizzazione. Per loro era tutto molto più facile perché essendo i doji c'era una cultura un pelino un po' più imperativa, un po' meno disponibile a certe discussioni. Però a parte questi dettagli, in realtà il meccanismo era una progettazione accurata dell'impianto di montaggio, una progettazione accurata dell'organizzazione che ci stava attorno, un meccanismo di supervisione e controllo straordinario. So che non è particolarmente carino, però sono stati loro che hanno inventato la partita doppia. Il primo giornale, la prima storia della caratterizzazione della contabilità industriale e della contabilità analitica viene dall'arsenale di Venezia che per primi hanno incominciato a costruire il meccanismo della partita doppia, entrate e uscite. Con una piccola differenza che chi rubava veniva impiccato, sul serio. Non solo veniva impiccato, chi veniva sorpreso, il motivo della partita doppia serviva semplicemente a quel carico e scarico. C'è sempre un sano motivo dietro le cose inutili. In realtà c'era un carico e scarico, se non batteva pari la partita qualcuno aveva rubato. Punto. Chi rubava, chi veniva sorpreso a rubare veniva immediatamente ucciso e veniva appesa a una targa all'interno dell'arsenale. Questo è un altro dei racconti che ci ha fatto il mitico ammiraglio. E dice che l'unico modo che c'è stato per poter eliminare quella targa e quindi l'infamia per la famiglia è stato nelle una delle ultime ricostruzioni, credo a fine ottocento dopo Napoleone, che le famiglie hanno potuto riscattare le targhe dei propri ascendenti. E ne sono rimaste pochine ancora presenti. Evidentemente qualcuno non aveva sufficiente denaro, aveva sperperato tutto quello che aveva rubato il bisbisnon. Mentre invece un'altra cosa veramente interessante, questo fa capire come la persona, l'uomo, laddove c'è per davvero il cambiamento, l'uomo è parte essenziale. Per la prima volta nel mondo delle imprese i dipendenti erano considerati risorsa strategica. La famosa peste, la peste nera che distrusse buona parte dell'Europa, a Venezia non fece dei gran danni perché tutti gli arsenalotti e le proprie famiglie furono accolti all'interno dell'arsenale e furono chiuse le porte per preservare in maniera molto cinica le competenze straordinarie che gli arsenalotti avevano. Chiaro? Questo fa capire come la qualità, la competenza, l'eccellenza nel lavoro venisse percepita a quei tempi da un'azienda di successo. Che è esattamente la stessa identica cosa che si fa oggi quando incomincia a parlare di skill matrix, di competenze, di conoscenze. Quando un po' di tempo fa si diceva ritorno a fare l'artigiano come era una volta, anche se un artigiano con tante persone, con tante risorse, ma con quei principi ti accorgi come il meccanismo di fatto si basa sostanzialmente sul fatto di avere delle persone che hanno degli obiettivi comuni, che hanno voglia di fare le cose fatte come Dio comanda e che ci sia qualcuno che cura i dettagli. Perché il dettaglio che frega non è la parte grossa. Spesso è la vitina che mi manca per riuscire a finire il montaggio di una macchina. È raro che sia il motore che mi manca per il montaggio della macchina. Chiaro? E purtroppo questa lettura del dettaglio è una lettura del dettaglio che noi perdiamo regolarmente man mano, perché ci concentriamo solo sulle cose grosse. Certo, perché se solo una persona in azienda si può concentrare, quello si deve concentrare sulle cose grosse. Ma se sono tante le persone che possono e sanno concentrarsi, ognuno si può concentrare sulle proprie cose grosse. Chiaro? Quello che a suo tempo fecero con gli arsenolotti fu quello di usare gli arsenolotti per le competenze che avevano e pretendere che gli arsenolotti esercitassero la propria competenza per gestire la propria attività. Chiaro? Quindi la lettura, diciamo, delle origini del mondo dell'eccellenza organizzativa nel mondo della Venezia degli anni passati, ci piace perché ancora una volta abbiamo insegnato noi come si fanno le cose, ok? Poi come tutte quante le cose italiane poi ce lo siamo dimenticati, ok? Ce le abbiamo e le abbiamo dimenticate. Noi le abbiamo dimenticate ma il signor Toyota no. Il mondo Toyota è una cosa curiosissima perché in realtà là c'è un... sapete perché la Toyota si chiama Toyota e non Toyota? Perché la famiglia si chiama Toyota. Si chiama Toyota perché quando scrivi in caratteri giapponesi il Toyota usi più di otto caratteri, scritto con... più di sei caratteri, scusatemi. Scritto Toyota in giapponese e Toyota in occidentale ci sono sempre sei caratteri. Per cui per poter rendere omogeneo, standard, la composizione del marchio sia in giapponese che in occidentale, quando il figlio di Toyota negli anni 920-930 costituì la Toyota Motors, decise invece di usare il Toyota, di usare il Toyota perché il suo obiettivo era vendere macchine nell'occidente e quindi aveva bisogno di avere un marchio che fosse gestibile. Per cui la Toyota è costituita, il socio fondatore fu Toyota. Toyota era un personaggio straordinario, era un progettista, un inventore straordinario di fine ottocento. Come dicevo prima, lavorava nel mondo del telaio per filati, è stato il primo che si è inventato il telaio che si ferma automaticamente e sognava Ford. Lui ha imparato il processo, il modo di lavorare di Ford è stato il principio ispiratore del modello Toyota. E ancora una volta noi abbiamo una storia raccontata ben diversa da quella vera nel mondo di Ford perché la mitica Ford T, che è stata la prima macchina per tutti, è stata la prima macchina a essere costruita per processo, progettata e costruita per essere assemblata in un'unica linea di montaggio, in un palazzo composto da cinque piani, dove entrava il telaio al piano terra, faceva tutto quanto il giro e usciva la macchina con le proprie ruote dipinta. E un'altra osservazione ve la faccio per il concetto del principio della qualità e del percepito del valore per il cliente. Voi tutti quanti sapete la battuta del marketing che fanno i marchettari che dicono, come diceva Ford, di qualunque colore purché sia nera, per la riduzione dei costi, in logica imperativa. In realtà il motivo del perché era nera era un motivo di qualità. Perché essendo stata la prima macchina dipinta in un processo tecnologico, quindi non a pennello a mano, ma con un impianto di verniciatura, a quei tempi non erano così sofisticati come sono quelli nostri, e creare, trovare una chimica, una verniciatura che consentisse una distribuzione omogenea, liscia, come piaceva a quei tempi, di un bel colore, non riuscivano a trovare nessun additivo per poter diluire il vernice in maniera corretta. Finalmente ne trovano uno che però ha una piccola sfiga che macchia. Per cui tecnologicamente era straordinario, però macchiava. Per cui l'unico colore che supportava quella macchia era il nero. Per cui la famosa frase di qualunque colore purché sia nero era perché era l'unico colore che permetteva una riduzione dei costi con un percepito del valore, la qualità coerente con quello che è la richiesta del cliente. Ford è stato cacciato dal Ford e dopo che lui è stato cacciato da Ford ha preso quel meccanismo di mass production, come viene chiamato, il Fordismo in senso dispregiativo, raccontato anche dal mitico Sherlock nel film che non mi ricordo mai come si chiama. Il buon Toyota prese Ford, andò a visitare Cistetti a lungo con Henry Ford, andò a visitare la fabbrica della Ford T e tornò con questo straordinario principio della logica di gestire per processo. Lui fece questa osservazione guardando il modello della Ford T, il materiale non sta mai fermo, io non ho bisogno di movimentazione, il materiale non è mai fermo, immobilizzo del denaro poco. Quindi alla fine se io lavoro per processo ci guadagno, perché ho un bisogno di mano d'opera, chiamiamola così, inferiore. Qual era l'altro grande vantaggio del Fordismo e del terrorismo? Fu il primo studio dell'ergonomia del posto di lavoro. Ergonomia del posto di lavoro che vissuti in maniera intelligente come era ai tempi di allora, purtroppo degenerati in maniera negativa nel mondo della crisi post su Wall Street, per capirci, nel preparatorio della guerra, che invece è quello che poi è stata, si è degenerata nel Fordismo più bieco, no? Fa che è quella del accelera per accelerare, non riduce gli sprechi per aumentare il valore dell'attività positiva che deve essere fatta. Guardando questa cosa il buon Toyota capì che a fare un'azienda per processo è meglio che farlo per reparto. Lui cominciò a ragionare e il mitico Taichi Ono, che fu il suo, che in realtà lavera mente dietro tutto il processo del Toyota Way e il mitico Taichi Ono, tanto non spendeva soldi suoi quindi stava tranquillo, poteva fare quello che voleva, capirono che gestire il processo e gestire l'eccellenza dell'attività diventava l'elemento chiave per differenziarsi. Ricordate poi anche la grande problema del post seconda guerra mondiale dove i giapponesi non avevano soldi e purtroppo noi occidentali non gliene prestammo, per cui loro furono costretti a dover recuperare soldi da che cosa? Dagli sprechi che avevano. Il buon Taichi Ono disse un po' di tempo fa, se voi occidentali ci avesse dato i soldi dopo la seconda guerra mondiale non ci saremmo mai preoccupati di andare a lavorare sulla qualità totale e il miglioramento continuo. Perché anche a noi sarebbe piaciuto avere i soldi per comprare degli impianti, non ce la vedo i dati e poiché io voglio fare organizzazione industriale ho trovato, mi sono arrangiato, crisi straordinarie, mi sono arrangiato per trovare modi alternativi per poter guadagnare, quindi non spendendo, concetto leggermente diverso, non spendendo io riesco a guadagnare quello che mi serve per fare quello che devo fare. Punto. Una battuta io faccio sempre in questa occasione, la non qualità, la qualità non qualità ognuno si diverte a chiamarla come gli pare, rappresenta spesso il 10, 15, 20% del fatturato, non del margine. Provate a immaginare che cosa vuol dire avere il 10% del vostro fatturato, fare un falò a fine anno e accenderlo, perché questo è il concetto del costo e la qualità. Vogliamo fare riduzione dei costi, riduzione degli sprechi, facciamo riduzione degli sprechi, tiriamo via delle mazzette di banconote da questo falò. Ogni banconota che allevo oggi è una banconota per i prossimi 20 anni. Questo è il meccanismo di eccellenza organizzativa, Chiamasi, miglioramento continuo, Chiamasi Kaizen, che nel corso degli anni ha determinato l'approccio del Toyota Way. La natura intrinseca del processo Toyota, come vi raccontavo prima del vecchio padre che dice che ci hanno rubato, ma non è un problema perché tanto mentre loro imparano a farlo noi l'abbiamo già migliorato, avendo sotto questa capacità, questa cultura, questo atteggiamento mentale, non avendo soldi per comprare impianti, il processo del miglioramento continuo nasce con questo meccanismo e con questa modalità. Il Toyota Way di fatto si basa su cinque grandi famiglie di pensiero. la prima, sono parte su tutte parolacce, il Genki Gembutsu. Però qualcuno di voi spesso si sente ormai nei convegni parlare del Gemba. Non so se qualcuno il Gemba l'ha mai sentito. è una cosa che per esempio per gli occidentali è un modo difficilissimo di vivere l'impresa, perché il Gembi Gembutsu vuol dire andare alla fonte, vuol dire ragazzi i problemi sono in un posto e tu non puoi risolverli facendo la riunione in ufficio. Se vuoi risolvere il problema vai dove il problema c'è. Se no come fai a vedere il problema? Se te lo vengono a raccontare e possiamo divertirci a fare il gioco del passaparola. Se io racconto una cosa che la racconto a lei che la racconto a lei che incomincia a girare, dopo due o tre giri la cosa raccontata ha smesso di essere quella vera. Se vuoi risolvere un problema, poche storie. Su e pedalare. Le riunioni vere si fanno in fabbrica. Mi fai una riunione, mi fai un gran powerpoint, l'altro giorno in un'azienda che mi sono dilaniato quattro ore a guardare powerpoint. Ragazzi, bello, powerpoint è bello. Però non dobbiamo risolvere i problemi, dobbiamo fare un lancio di prodotto, non possiamo mica stare qui a guardare powerpoint, dobbiamo risolvere il problema e se vuoi risolvere il problema vieni giù con me, andiamo in linea, ti faccio vedere il problema e dove devi montare questa maledetta vita, che non si riesce a montare. Tu racconta tutto quello che ti pare a livello di powerpoint, ma il problema poi alla fine è andare lì sul genba. Il gengi genbuzzo è vai, muoviti, vai alla fonte, vai laddove il problema esiste e vai con le persone che ne sanno qualche cosa. Poi è inutile che mi fai fare escalation del problema. Per cui il problema alla fine arriva alla direzione generale che di quella cosa non ne sa nulla. Cosa vuoi che decida? Decide di pancia, non decide di competenza. Decide del raccontato, di un racconto raccontato da terze parti. Decide sulla base dell'arrabbiatura che ha avuto due giorni prima e decida dalla base del cliente che si sta arrabbiando o no su un problema piuttosto che su un altro. E avendolo detto il direttore generale, quello è la... Vangelo. Ok? Quindi il primo pezzo del gengi, lì, quella parolazza, andiamo alla fonte e il secondo è cambiare in meglio. Noi siamo abituati al concetto di manutenzione, vero? Facciamo costante e continua manutenzione nei nostri impianti, gestiamo costantemente, vero? Anche a casa, anche a... Vedo delle facce, è molto convinto. Perché ci dà fastidio spendere in manutenzione? Perché ho soldi buttati. Manutenere è un soldo buttato. Io ho comprato una macchina per fare certe cose e mi tocca anche pagarla per fare in modo che le cose rimangono quelle. il dato di targa mi dice tot pezzi l'ora perché io devo spendere dei soldi perché questa macchina non mi fa tot pezzi l'ora. La sfiga è che se tu non fai questa operazione dopo un po' quella macchina si ferma. Quei furbacchioni dei giapponesi che i soldi non ce l'avevano che cosa dissero? Ma se proprio devo spendere? Perché non spendo per far aumentare i pezzi di targa. Tra far girare a 100 pezzi l'ora, perché devo spendere dei soldi perché sennò diventano 98? Perché non spendere dei soldi per fare 102? Spesi per spesi, tanto vale ci guadagno ci guadagno due pezzi in più. E la vera differenza è che smette di essere un concetto di manutenzione, ma diventa miglioramento. I soldi sono sempre gli stessi, ma li spendo molto più piacevolmente perché alla fine degli interventi di miglioramento continuo non ho 98 pezzi l'ora, ne ho 102. Chiaro? Produce di più. Non ho bisogno di comprare un'altra macchina. Faccio un esempio stupido, uno dei calcoli che tipicamente noi chiediamo alle aziende di mettere in piedi, e l'OE, non so se qualcuno di voi l'ha mai ragionato, l'Overall Equipment Effectiveness. Che vuol dire? I paroloni italiani. Quanto ti ha prodotto quella macchina? Rispetto al tempo della macchina. Io una macchina la compro perché deve lavorare 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno, 366 gli anni bisestile. Poi la faccio lavorare su un turno. Già sta lavorando un terzo. Poi durante quel turno e a volte sta ferma perché devo fare cambio formato, a volte sta ferma perché devo fare dei aggiustamenti, a volte sta ferma perché è rotta, a volte va più piano di quello che dovrebbe andare. Per cui alla fine che cosa ho versato a magazzino? 8 ore positive, 8 ore a valore. Alcune di queste sono addirittura ritornate negative perché diventano di qualità negativa. Alla fine ti accorgi che tu hai comprato una macchina che deve lavorare per 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e il valore versato buono al magazzino. E' scarso il 20% di questo 365. E poi devo comprare un altro impianto? Oh, fammi usare meglio quello che ho. La prima grande innovazione dei processi di organizzazione eccellente è che smettono di comprare degli impianti nuovi e fanno funzionare bene quelli che hanno. Fino a che non stanno funzionando bene, perché lo devo cambiare? Abbiamo il mondo office che è un tripudio di questa inutilità. Ci lavoro da 1987 con il mondo office. Ho incominciato col mitico Worldstar 2 che nessuno di voi sa che cos'è. Microsoft non esisteva. Dostos, neanche a parlarne. I comandi che io uso sono gli stessi che usavo nel 1996-1987. Il CTRL-C, CTRL-V, che è quello che si usava nel Worldstar 2, perché la base è sempre quella. Nel 90, per un nostro cliente, su un programmino del Menga gli fece un RP, che stava su un dischetto da 128K. Oggi comprare un RP significa dire spendere giga di tera di roba. E fa le stesse cose, distinta cicli o di produzione. Allora è inutile creare, e lo vedremo, creare delle cose che non servono. Andiamo a usare bene le cose che ho fino a che ho raggiunto il massimo estraibile da quel processo. E allora poi a quel punto posso, tra l'altro guadagnato, posso permettermi il lusso di comprare una nuova macchina. Tra l'altro, avendo imparato nel migliorare la vecchia, pensa la nuova come la faccio a lavorare bene. Pensa la nuova come riesco a far sì che immediatamente la compro per 150 pezzi e me ne fa 160. il terzo piedone del mondo del Toyota è il challenge. Che vuol dire challenge? Ed è quello che proprio noi facciamo veramente fatica, e questo lo dico con... è la mia lotta perpetua con il mondo dell'impresa. Capisco che domani mattina dobbiamo pagare gli stipendi, ma fino a che io non ho un obiettivo di medio lungo termine, come faccio a capire che cosa devo fare? Quando il giapponese ti dice zero difetti, per lui è zero difetti, che non è una cosa irraggiungibile. Se io incomincio a pensare che zero difetti è irraggiungibile, sono napoletano fancazzista, no? Se mi dice che è una cosa irraggiungibile, perché mi devo muovere? Faccio nulla. Se invece zero difetti è un qualche cosa che io so di poter raggiungere, poiché sono anche un po' asburgico, mi metto, ok, sacrificio, pizzico sulla pancia, incomincio a lavorare per raggiungere quell'obiettivo. E ogni sacrosanto giorno so se mi sto avvicinando, se mi sto allontanando. Ma se incomincio a pensare, se io non ho obiettivi di lunga durata, come faccio a fare il passo? Nei cambiamenti sapete che il problema principale è il primo passo, dopo è facile. Ma come faccio a fare un primo passo se non riesco a capire dove devo andare? Ora, quello che a noi spesso manca è determinare gli obiettivi di medio-lungo termine, a livello aziendale è difficilissimo, a livello personale è un po' più facile, no? Nel momento in cui io ho percepito, ho identificato questo obiettivo, poi dopo io lo determino, lo deployo, brutta parola, lo faccio diventare una serie di obiettivi anche del breve. Ma almeno io riesco a capire se ognuno di questi obiettivi è coerente rispetto a quello che il mio sistema sta chiedendo. perché? Perché alcuni di questi obiettivi sfidanti, quanto ti pare, sono in grado di poterli sostenere, altri non ho tutte le risorse per farlo. Ho capito, però le risorse si possono addestrare, posso montare le competenze, dico bene. Allora, fammi crescere le competenze, competenze che non sono solo del sapere inutile, ma del saper fare, perché poi a me serve che le cose si facciano, le cose devono succedere. Vedo gente, faccio cose, non mi piace. Una cosa o l'hai fatta, c'era un vecchio saggio che diceva, non dirmi quanto duro lavori, ma dimmi che risultati hai portato. Quante volte ci sentiamo raccontare, ah ma io ho lavorato un sacco di ore. Scemo. Lavora di meno e porta il mio risultato. Purtroppo però noi siamo poco abituati a questo modello comportamentale. Noi siamo abituati ad apprezzare quello che ci dà la disponibilità del suo tempo, perché il tempo è denaro. Sapete che in due diligence anglosassoni in particolare del mondo americano, una delle prime cose che guardano è la quantità di straordinario fatto dai dipendenti in particolare a livello manageriale. Se lo trovano, non alto, se lo trovano l'azienda perde valore. Non l'azienda acquista valore. L'azienda perde valore perché se tu non fai quello che devi fare in otto ore vuol dire che sei disorganizzato. Punto. Vuol dire che la tua dimensione d'azienda non ti consente di organizzarti. Vuol dire che se io mi ti compro, poi ci devo andare a mettere altri soldi per farti diventare coerente. Noi invece siamo orgogliosissimi quando andiamo a raccontare ai miei collaboratori che vengono il sabato mattina. Sabato mattina fagli andare via, fagli andare a divertire, che così lunedì mattina avvengono più sani, sereni e tranquilli. Il concetto del lavorare in gruppo. La parola team ha una serie di sfumature straordinariamente complesse. Lavoriamo in gruppo, lavoriamo in team, facciamo squadra. Bellissime parole, spesso ci riempiamo la bocca di team work, di team building. In azienda il team non serve. Entriamo in questa piccola chiave di lettura molto polemica. Mi piacerebbe avere dei team, ma quando è che si lavora in team? Mi sapete fare un esempio sportivo di un team? Il calcio è squadra. Formula 1? No. C'è un povero a livello sportivo l'unico vero team che è veramente o è team o non fosse il doppio tennis. Qualcuno di voi gioca a tennis? Avete mai giocato un doppio a tennis? Tu giochi a tennis. L'unico vero team è il doppio a tennis. Ti metti d'accordo con il tuo collega, con il tuo compagno ogni volta che c'è una pallina che va all'altra parte. Aspetta, questa la prendila tu. No, aspetta, questa la prendila tu. Aspetta, ti mando una mail. Il concetto del team, io spesso dico, si lavora in gruppo, si lavora a squadra e si lavora in team. Sono tre diversi modelli comportamentali del lavorare insieme. Lavorare insieme, lavorare insieme significa dire che c'è un centro stella che dà il lavoro agli altri e il capo con i colleghi lavora bene, tutto quello che ti pare, ma c'è un centro stella che prende le decisioni e distribuisce degli incarichi. Il calcio è una squadra, non è un team. Perché è una squadra? Prima di tutto l'allenatore non gioca. Chi è che gioca? Il giocatore. L'allenatore? No. Colui che decide gli schemi, le strategie, le politiche, il direttore generale, la proprietà, no? Non gioca. Non è presente nelle attività quotidiane. E per poter fare una bella partita, che cosa fa quella povera squadra di calcio? Lavora per sei giorni a settimana, cinque, per fare due barra tre partite a settimana. Si fa, quelli seri, un bel po' di allenamenti, non in partita. Il training on the job. Significa training on the job? Significa che io, mentre sto giocando la partita, mi metto a fare le prove di palleggio. Quello è il training on the job. I basilari, quando te li studi? Fuori. Non imparo a fare il palleggio mentre sto giocando la partita. E ne io, allenatore, pretendo che tu ti metti a perdere del tempo a fare il palleggio mentre sto giocando la partita. Ti obbligo a fare il palleggio durante le altre ore. Qual è il training on the job che io faccio sul campo? L'interfunzionalità. Ho insegnato gli schemi di gioco. Cosa sono gli schemi di gioco di una squadra? Procedure, istruzioni. Chi viene dal mondo della qualità si diverte da matti. Tutto il mondo delle procedure, istruzioni operative, manuali, non sono gli schemi di gioco di una squadra di calcio. E un giocatore può non conoscerle. Cosa fa l'allenatore quando il giocatore si comporta fuori dagli schemi di gioco? Fuori dagli schemi concordati? Il team è, altro piccolo dettaglio, la squadra. La squadra esiste a prescindere da chi sono i giocatori e di chi sono gli allenatori. La Juve, per me è Juve perché è antipatica, a me il calcio non piace, quindi parlo male del calcio perché posso parlare male di tutte le squadre perché il calcio non mi interessa. La Juve esiste da mo', sono cambiati proprietà, l'Inter poi ancora adesso non ne parliamo perché è ancora più divertente perché è cambiata di tutta la nazionalità. Eppure esiste, sono cambiati i giocatori, sono cambiati gli allenatori, sono cambiati tutto quello che ci sia, ma la squadra esiste. Questo fa capire che l'azienda vive se è squadra, non se è team. Perché il team, che cosa succede al team? Il team è quando ho talmente creato sinergia che io non ho bisogno di dialogare per gestire l'attività. Il doppio tennis è talmente frenetico per chi ci gioca che non può permettersi il lusso di fermarsi e parlare. E la mia capacità, la mia bravura serve a coprire rispetto all'avversario le incapacità del mio collega. Provate a immaginare se su un campo da tennis in un doppio il mio compagno sbaglia per l'ennesima volta il rovescio e dico, oh ma insomma sto rovescio ancora non ha imparato a fare il rovescio. Che cosa succede da quell'istante? che l'avversario, se sono intelligenti, se hanno un minimo di tempo, eppure noi questo tipo di attività la facciamo spesso in azienda. Che andiamo ad accusare i nostri colleghi. o no? Non vi è mai capitato. Quindi fa capire che a me non serve tanto il team, o meglio il team ancora una volta è il sogno, il challenge come l'abbiamo definito, quell'obiettivo di lunga durata, che mi consente. Il dream team di Velasco era straordinario. Peccato che quando sono finiti quelli lì è finito anche il dream team. D'altra parte o crei un'alimentazione continua e curi questa continua sostituzione creando dei meccanismi di rigenerazione del team. Perché ogni volta che in un team straordinariamente efficace me ne va via uno e me entra in un altro, le dinamiche cambiano totalmente. Per capire bene le tre differenze, provate a immaginare i vostri amici e la vostra rete di relazioni e come vi comportate con il primo, il secondo e il terzo livello di relazione. Tra gli amici stretti, tra i conoscenti o tra gli amici frequenti e tra i conoscenti. E' la differenza fra il modo con il quale vi comportate nel lavorare in gruppo, nel lavorare in squadra e nel lavorare in team. Sono atteggiamenti relazionali che noi abbiamo montati nel nostro modo e la prossemica, il fastidio appartiene a quel piccolo giochino che abbiamo qui dietro, la migdala, che è l'unica cosa che ci rimane nel nostro essere animale. Per cui mi entri nel mio territorio e io mi adiro. Perché incomincio a pensare se sei o non sei un avversario da sbranare. Per quanto carino, intelligente, umano, io possa essere diventato, la mia prima reazione è una reazione istintiva. Questa reazione istintiva è quella che determina il rapporto tra il primo, il secondo e il terzo livello di relazione. Se io riesco a riconoscere questa modalità comportamentale, so lavorare in team perché so rispettare gli altri. Lavoro in team, io riesco a giocare in doppio a tennis se sono bravo a riconoscere la capacità del mio compagno di essere più bravo di me in certe cose, non di essere io più bravo di lui. Io devo capire che lui è più bravo di me e avere l'umiltà di saperlo ammettere. Quanto più io sono umile e rispetto le competenze degli altri, tanto più gli altri avranno piacere di lavorare con me e di crescere. Queste sono le cinque basi del Toyota Way. Notate che a livello di strumenti c'è poca roba. Perché? Toyota su Toyota. L'obiettivo è lo sviluppo e la crescita. Fine. Gli strumenti, quelli che servono, useremo. Quello che ho, uso. Non mi preoccupo di progettare degli strumenti. L'altro giorno ho discusso con un nostro cliente perché stiamo parlando di sviluppo e questo mi parla di un software. Aspetta. Stiamo parlando di un cambiamento culturale e tu mi dici di un software. Stiamo parlando di quadri e tu mi porti i chiodini del martello per appendere i quadri al muro. Se io parlo di strumenti vuol dire che io sto parlando di martelli, ma se io imparo a usare il martello, se davanti a me ho una vite, che cosa faccio? Una martellata. Perché non riesco neanche a riconoscere la vite. Allora, prima di imparare gli strumenti, il motivo per cui la presentazione di oggi è giocata in questo modo, non guardiamo gli strumenti. Anzi, gli strumenti li guarderemo nei case history che vi faccio vedere. Ma guardate i principi, perché guardando dal principio è la bozza dell'architetto che ti fa innamorare di una casa o no. Poi lascia perdere che ci sarà un centimetro più lungo, un centimetro più corto, non mi interessa. Ma quella cosa, mi piace o non mi piace? Per voi donne è il massimo, siete il tripuglio di questa modalità. Questa percezione è quello che fa la differenza tra i tre sistemi. Toyota cura moltissimo la visione di medio e lungo termine. La cura talmente tanto che nella chiave di lettura organizzativa noi ragioniamo in questo modo. La piramide, la classica piramide dell'azienda. Per Toyota la piramide è al contrario. Perché? Perché la percezione che il cliente ha, la ha dalle cose che ha comprato. Ma chi le ha fatte? La produzione. Per cui è il gemba, la produzione è il gemba, è il gemba che ha stretto contatto del cliente. Per cui qualunque cosa succede, tu direzione, devi aiutare il gemba, non il contrario. Cioè tu direzione sei sotto che sostiene sulla base di quello che il cliente chiede alla produzione e la produzione chiede a te. Tu direzione sei schiavo e sei responsabile della realizzazione di quello che il cliente sta chiedendo alla produzione. Chiaro del perché questa cosa da noi funziona pochino. E' questo il problema. Non è io direzione ti obbligo. Io direzione devo ascoltare quando prima si diceva andare nel gemba. Vai alla radice, il gengi, il genbuzzo. E che tu direzione, se continui a fare direzione, parlo di direzione per dire tutti i livelli manageriali che non sono immediatamente a contatto con chi stringe un bullone, tira il truscio, lo fa quello che deve fare, la direzione se non va sul campo a capire il problema è per quello che realmente è useless, è spreco, è spreco aziendale. Il cliente non è disposto a pagare una cosa del genere. E il gemba è la direzione che deve sostenere per cui il riconoscimento del valore nasce da quello che il cliente percepisce dalla cosa che ha comprato. Quindi è la produzione che genera il valore. Entriamo nell'altro mondo. Qua siamo nel mondo del Old Wild West perché siamo in America. Il mitico Womack, Jones e Ross, soprattutto Womack che ormai è il number one di questo mondo. Nel 91 pubblica la macchina che ha cambiato il mondo che c'è il simbolino della Ford ma in realtà dietro c'è il Toyota e l'azienda Toyota e questa ricerca del Massachusetts Institute of Technology che nel periodo degli anni e fine anni 80 durante la crisi fece fare a Womack e Jones questa analisi. che cosa emerge? I cinque principi dell'in sono straordinari perché che cosa dicono? Un po' come i cinque principi Toyota. Entriamo in quello che abbiamo detto prima. La prima cosa è se vuoi fare l'in capisci qual è il valore. Una volta che hai capito che il valore è ciò che i clienti sono disposti a pagare, poi il resto sono tutte storie, con il concetto di cliente con la C maiuscola stakeholder, cioè cliente che non è solo il cliente che paga il bene o servizio ma anche il cliente dipendente piuttosto che il cliente titolare. Il secondo, la seconda cosa che devi fare qual è? Identificare lo spreco. Tutto quello che non serve al valore lo devo levare. E come faccio? Mi metto sul cliente e incomincio andando all'indietro nel processo costruisco il flusso produttivo, il flusso industriale che non mi interessa dal punto di vista industriale. Mi interessa capire se in questo flusso ogni attività che viene generata è un'attività che porta valore o non porta valore. Se per me è valore la leggerezza di un oggetto, nel ricostruire il processo di creazione di questo oggetto, tutta la roba che mi appesantisce non è valore. Per cui la cosa principale, se io copisco cos'è il valore, io devo andare a ritroso lungo il mio processo a capire quali sono le attività che generano valore e le attività che non le generano. Perché nel momento in cui io faccio questo io sono in grado di eliminare gli sprechi. ho capito qual è il valore, ho capito quali sono le attività a valore, le attività che non sono valore, chiamasi sprechi, sono in grado di eliminarle o quantomeno di ridurle. L'amministrazione non la posso eliminare, però almeno la posso ridurre come onere agenziendale. Il magazzino, diciamo quello che ci pare, non lo posso eliminare, però lo posso ridurre il magazzino. Se ho fatto il punto 3 e allora a questo punto faccio il punto 4, io uso sempre le metafore pratiche. Parliamo di flusso del valore, la catena del valore, la catena. Come faccio a sapere qual è l'anello più debole di una catena? Faccio delle analisi metallografiche. Oppure lo prendo e la tiro. Dove si romperà? Nell'anello più debole. Se tu vuoi capire se il tuo flusso sta andando bene o non sta andando male, che cosa fai? Push, la spingo, che così tutti gli anelli si compattono in un groviglio unico che faccio anche fatica a sbrogliare? No, io sbroglio, fase 2 e fase 3. Stendo la catena e poi incomincio a tirare. Il primo anello che si è rotto, che faccio? Come Rambo, col tallazzo fra i denti, giù Marins, vai a riparare quell'anello. Non fare il fenomeno che lo fai diventare di acciaio al titanio straordinario. Rinforzo QB, quanto basta. Perché poi subito dopo cosa fai? Continui a tirare. Si romperà un altro anello. E tu lo ripari, tiri, lo ripari, tiri. Questo è il quinto principio. La perfezione. A noi ci piace. Quando facciamo un cambiamento, progettare tutte le infiniti possibilità di miglioramento di questo processo. E fino a che il processo non ha raggiunto il top dell'eccellenza, nelle mie analisi non faccio nulla. E la cosiddetta analisi, paralisi da analisi viene definita. Faccio delle bellissime analisi per migliorare il processo, mentre faccio le analisi, il mondo intorno, che cambia così rapidamente, purtroppo o per fortuna, è già tutto cambiato. Per cui le mie analisi le posso mettere dentro il cassetto e buttarle via. Un principio che è una cosa molto americana da questo punto di vista, e qua ci accorgiamo proprio della differenza culturale tra un approccio molto human giapponese e un approccio molto old wild west americano, pochi maledetti e subito, no? E' quello di dire, cominciamo con quello che abbiamo e poi dopo vediamo. Valore, e poi vedremo come il concetto di spreco è stato straordinariamente riportato dal mondo dell'in, perché cos'è valore per il cliente? Ma io non posso mica perdere del tempo a capire qual è il valore dei miei infiniti clienti che posso avere. Dico bene, perché io per poter creare per davvero il valore per la mia impresa dovrei conoscere personalmente tutti i miei clienti e capire per quale maledetto motivo quel fesso sta comprando la mia azienda. E allora io sono riuscito a capire il valore per il cliente, che nel frattempo è già cambiato. Che cosa fa allora questo straordinario mondo americano? Incomincia a dire, ciccio, lo spreco, e lo vediamo qualche poco dopo, per me, fa quello che ti pare rispetto al valore, però sicuramente esistono sette sprechi che qualunque sia il valore che tu vuoi andare a generare sicuramente sono cose che non vanno bene. Per la logica dell'in, io spesso uso un'altra metafora, un fisico 180 centimetri per 80-82 kg strutturato di muscoli, non di lipido, è un fisico eccellente, o no? Ci piacerebbe, diceva qualcuno, ma parliamone. Perché se deve fare il lottatore di sumo, è un po' sfigato, magrino, piccolino, no? Se deve fare il fantino, è peggio, è sovradimensionato. In entrambi i casi non rappresenta un'eccellenza. E' eccellente per altre cose, ma non certamente, né per fare il fantino né per fare il lottatore di sumo. E qui notiamo il concetto di valore in maniera intelligente. Il valore, a questo punto, è da una parte aumentare la massa, dall'altra parte diminuirla. Che sono due principi completamente diversi. Però entrambi servono a far sì che questo fisico raggiunga il valore per il quale è stato progettato. E questo fa capire che ridurre i costi non è corretto. Perché se io devo fare il fantino, ridurre i costi. Cioè il peso è corretto. Ma se io devo fare il lottatore di sumo, io devo aumentare il peso. Chiaro? Per questo è importantissimo capire che il concetto del valore è un elemento chiave nell'analisi dell'IN. E' altrettanto vero che in assenza di una perfetta, puntuale, precisa analisi del valore, io posso permettermi il lusso di incominciare a lavorare su alcuni sprechi che sicuramente non vanno bene. Perché tranne rarissimi casi, e anche nel mondo del lottatore di sumo, il lardo da solo non basta. Aumentare il chilo va bene, ma in un rapporto bilanciato tra massa muscolosa e massa grassa. Per cui, qualunque sia la condizione, esatto per il principio, se il grasso lo levi, non è male. Questo è un concetto molto americano, molto hard del mondo americano, che è quello che ha fatto cambiare i modelli comportamentali dal mondo Toyota, quindi dall'altura del Toyota all'altura del lean. Se Toyota è molto human, il lean è molto hard, è molto da campo. Tant'è vero che nella chiave di lettura è esattamente all'opposto. La piramide è molto americana, ritorna, io e Obama sono a capo di tutto. Punto. La produzione deve ridurre gli sprechi. Non crea valore. Non so se è chiaro. La lettura in questo modo è la produzione deve ridurre gli sprechi. Perché? Grazie alle riduzioni degli sprechi, io, direzione, riesco a capire qual è il valore migliore che posso dare al cliente. è un modo molto hard, però il concetto di fondo è facendo riduzione degli sprechi, iniziando dalla produzione, tant'è vero che il lean nasce come lean production, poi è diventata lean thinking e lean organization. Facendo quest'operazione, io riesco a capire bottom up, dal basso verso l'alto, dove devo andare a eliminare degli sprechi per poter snellire la mia struttura e quindi, teoricamente, avvicinare il più possibile il valore al cliente. Ok? Non sempre questo valore rimane attaccato sulla macchina, ma rimane spesso attaccato nella tasca di qualcuno. Ok? Il processo di miglioramento nasce da un obiettivo direzionale che si preoccupa di raccogliere gli sprechi e di capire dove utilizzare i miglioramenti che ha ottenuto. Chiaro? Ce la facciamo? Il world class manufacturing nasce nello stesso identico principio. Oggi si sente molto parlare di world class perché Fiat, col buon marchionne, sta facendo l'ira di Dio col mondo del world class. In realtà il world class è nato ancora prima dell'In e nasce da una situazione, nello stesso periodo, le stesse condizioni, dove però era un ungherese che è andato a fare questa analisi pur pagato dagli americani e quindi è una versione molto asburgica del processo industriale per cui il signor Will Wright tra Schoenberg, in realtà Schoenberg che nell'86 l'ha messa in piedi, incomincia a dire i Sony, era il mondo del bianco, mentre la Lean andò ad analizzare il Giappone nel mondo dell'automotive, i signori del world class andavano nel mondo del bianco, dell'elettrodomestico, televisori, lavatrici, che a questo periodo incominciarono a diventare il punto di traino del mondo Sony, quel mondo, tutto quel giro, quel giro lì. Il meccanismo è un meccanismo molto sburgico, ossia io ti dico che cosa devi fare. Sono i piani quinquennali, i piani decennali, è un meccanismo molto simile, chi si è inventato gli indicatori, i piani, sono sostanzialmente modelli, il balance scorecard, non so se qualcuno di voi l'ha sentito parlare in precedenti incontri, il meccanismo degli indicatori prestazionali di performance aziendale, è un mondo che è partito sostanzialmente da questo modello gestionale che dice per far funzionare bene ricavi, costi, margine, io voglio questo margine, questo è il modo per i cavi, questo è i costi massimi che io posso ottenere, questi sono i costi reali, la differenza fra questo e questo, quant'è, dove posso agire, come posso fare? Sostanzialmente creo un macro obiettivo che livello per livello vado a ridistribuire fino all'ultimo livello in produzione. E' un meccanismo vergognosamente top down. Cioè io direzione e decido cosa fare. Chi è infatti che usa il modello world class? Le grandi multinazionali. Nasce dai mondi di Tetra Pak, nasce dai Fiat. Perché? Anche per una questione utile, non solo inutile. Io oggi sono in Italia, domani devo andare a lavorare in Cina, devo andare a lavorare in America. Se il modello è uguale per tutti, io quando entro nella fabbrica americana ho un modo di lavorare assolutamente uguale al mio. È lo standard comportamentale che diventa elemento chiave. E il meccanismo di deployment degli obiettivi fa sì che se io sono operation in Italia, se divento operation in Sud America, io verrò misurato come ero misurato in Italia, verrò misurato in America. Le cose che erano le mie responsabilità in Italia saranno mie responsabilità in America. Nei nostri mondi per chi ha un po' di multi-site, multi-company, multi-country, chi lavora un po' in queste cose sa che l'operation della mia azienda in Reggio Emilia non è uguale, non ha le stesse responsabilità dell'operation della mia azienda a Modena. non dico in America, a Modena. Il concetto di standard è un pelino diverso da quello che viene considerato nel mondo world class. Che cosa fa? Se ognuno, cioè tutti questi grandi modelli hanno i pilastri, hanno i principi, hanno le cose, i cinque principi, i cinque principi sia per l'uno sia per Toyota che per per Eileen, world class parla di 10 pillar barra 11 barra 12 barra 13 erano nati che erano 4 poi un po' alla volta nel corso degli anni si sono ovviamente allargati, distribuiti, differenziati che cosa vuol dire un pillar? Questo viene considerato il tempio aziendale. Se tu vuoi lavorare a quel risultato TPM Total Production Maintenance cioè la gestione dei sistemi produttivi a livello globale perché ragazzi è la produzione che fa i prodotti i clienti ci comprono perché la produzione genera dei prodotti e devono essere buoni quindi la produzione non può fermarsi se la produzione si ferma il cliente non ha prodotti per cui la logica di tutto il mondo del world class io devo ottenere una gestione dei sistemi produttivi che lavorano in logica di disponibilità degli impianti che vuol dire vuol dire che l'impianto non deve stare mai fermo ma non in generale non deve stare fermo quando mi serve vi siete accorti che qualche volta il tergiristallo non funziona quando ve ne accorgete e non va mia bene non va bene troppo tardi a me è toccato andare da Reggio Emilia a Milano per un orino importante e con il tergiristallo ovviamente la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede molto bene tergiristallo lato autista che non funzionava lato passeggero andava da dio ma lato autista non funzionava posso dirvi che la tangenziale di Milano sotto una pioggia battente senza tergiristallo l'è dura ok da allora ho imparato ogni tanto lo faccio girare e non si sa mai ok TPM vuol dire fare una gestione degli impianti in logica predittiva parlo di quelli straordinari io predico che la macchina si fermerà fra 5 minuti per cui fra 4 minuti programmo un fermo che così faccio la manutenzione e riparto fra 6 minuti chiaro? non è difficile contrariamente a quanto uno possa pensare quasi tutti i sistemi produttivi sono predecibili l'11 settembre fai fatica a aprirlo ma quanti delle vostre macchine hanno dei conta ore quante delle vostre macchine hanno dei conta pezzi la vostra automobile è un conta chilometri e voi siete abituati ad andare a fare il cambio dell'olio quando si accende una lucina siete abituati a fare un cambio delle gomme quando vi accorgete che avete fatto i 50.000 chilometri o quando vi accorgete che è un po' liscia la gomma hanno che cosa hanno fatto i furbide hanno messo quel ponticello fra i due bordini perché quando vedi il ponticello la gomma è liscia che cos'è questo? è un modello di predizione di una manutenzione da fare chiaro non è vero che non si può fare bisogna solo dedicarci del tempo vale la pena dedicarci del tempo questa è la grande domanda faccio un esempio brutale lavoravo per un'azienda del farmaceutico loro ce li hanno di soldi che si divertono da matti ci avevano commissionato un lavoro su una linea produttiva incominciamo a fare l'analisi di questa linea dobbiamo migliorare il processo perché dobbiamo ridurre perché abbiamo comprato un secondo impiatto 2 milioni e mezzo di impianto andiamo a fare l'analisi andiamo a vedere il campo vediamo i processi e ti accorgi che questo impianto non sul tempo totale perché fatto sul tempo totale era assurdo ma sul tempo di impianto acceso era produttivo per il 30% yes it is in realtà a ciclo era produttivo all'80% per cui la linea è satura per questo abbiamo comprato il secondo impianto no la linea non è satura la linea è scarica e tu perdi del tempo per tenerla accesa perché il versato a magazzino è 30% e il versato a magazzino non è 80% quindi vuol dire che tu hai una gestione dell'impianto dove il concetto è il TPM te lo puoi scordare chiaro fatta quell'operazione loro l'impianto l'avevano già comprato potete immaginarvi come è stato simpatico il direttore operation quando gli abbiamo raccontato sta cosa infatti poi non abbiamo più lavorato per loro ci sarà un motivo ci deve essere un perché che cosa dobbiamo fare noi in logica TPM vedete che la logica TPM è un vergognoso top down se il Toyota è una piramide rovesciata il Lean è una piramide bottom up ma a pianta corretta il world class manufacturing lavora con una piramide top down cioè io direzione asburgico so che cosa serve per cui a te a te a te ti do gli ordini perché voglio che le cose succedano ok è la lettura molto operativa del modello top down che trasferisce il concetto del miglioramento programmato pianificato predeterminato io devo prevedere quali sono le cose che mi servono perché sulla base delle cose che mi servono vado a determinare le azioni che devono essere svolte per raggiungere quegli obiettivi chiaro per questo il world class è gradito come modello comportamentale e ci sta tutto per le grandi imprese multinazionali dove l'obiettivo di le grandi aziende multinazionali monoprodotto non parlo di aziende multinazionali con molti brand che ognuno di loro ha il proprio brand aziende monoprodotto per le quali ogni sito produttivo in realtà è un pezzo dei reparti aziendali è un'azienda virtualmente distribuita ma fisicamente distribuita ma virtualmente è un'unica realtà e quindi ti do incarichi in modo tale che creo degli standard comportamentali che in un modo o nell'altro garantiscono dei comportamenti coerenti per cui se tu rendi qui il 20% rendi lì il 20% non è che rendi di più chiaro se tutti rendono il 20% vuol dire che lo standard che sto usando non è quello giusto perché se da tutte le parti non funziona di quello che ti pare ma è il processo che non funziona chiaro se noi se io vi chiedo a tutti quanti voi di prendere questo banco e portarmelo giù in piazza al castello siamo 60 persone abbiamo 120 modi diversi di smontare questo banchetto e di portarlo giù prima di capire qual è il modo corretto se almeno per fare una prova per capire il modo corretto ci vogliono 3, 4, 5 tentativi per poter capire dobbiamo fare 120 per 4 quanto fa 120 per 4 480 se invece decidiamo uno standard che fa anche schifo ma non fa niente però decidiamo uno standard prendo il banchetto buttalo giù poi compro un falegname e fallo riparare è un modo anche quello è un modo e tutti lo facciamo nello stesso modo al terzo tentativo che io butto e quello si rompe regolarmente forse ci parte in testa pensi a un altro magari non buttalo giù calalo se lo calo magari però è una fatica dopo il secondo terzo tentativo lo capisco siamo a 6 siamo a 7 se io incomincio a fare questo ragionamento nell'arco di 7 8 10 diverse miglioramenti ho trovato un modo eccellente dico io per prendere questo banco portarlo giù facendo la minor fatica possibile o no ma se sono 10 modi diversi per 4 esempi sto parlando e dopo 40 giri io ho risolto il mio problema non dopo 480 chiaro lo standard è bello quando è standard non quando è procedura lo standard è adesso non lo posso staccare se non rimango fregato ma è il cavetto questo spinotto qui è uno standard non la procedura con la lista dei componenti con identificati i punti di collegamento di ogni pin da questo punto a quel punto lì perché noi quando facciamo gli standard in azienda cosa facciamo le procedure facciamo le istruzioni ti scrivi il manuale ti scrivo delle gran belle cose e chi sei legge chi di voi si è letto il manuale del telefonino che avete allora per chi fa standard in azienda pensateci perché se voi non avete letto il manuale del vostro telefonino perché i vostri collaboratori dovrebbero lettergli le vostre procedure ma se non ti leggono le procedure come fanno a fare il comportamento standard devi mettere su il poliziotto ma il poliziotto è uno spreco è un costo la qualità costa e quindi non faccio qualità circolo vizioso straordinario concetto non è bello però un principio del genere se la direzione ha volontà funziona è asburgico tutto quello che ti pare da buon borbonico faccio fatica ad accettare gli asburgici però funziona devi però avere che cosa una direzione illuminata perché una direzione non illuminata chiamasi Adolf il comportamento è quello io ti dico voi fate tu zitto muto cuccia la sfiga dei meccanismi di leadership di questo genere è che nella grande maggioranza dei casi le leadership sono negative non positive sono poche le leadership così illuminate dicono Gesù Cristo noi l'abbiamo conosciuto Gandhi si però Mandela ci assomiglia però sono rari si contano sulle dita della mano di un monco per cui il modello chiamiamolo così del world class funziona e funziona anche bene laddove io mi devo trovare in condizioni di dover distribuire in maniera omogenea comportamenti a culture aziende site diversi lo standard tra virgolette imposto poi io ho forzato ovviamente la mano su queste letture tutte e tre la persona al centro tutte e tre le modalità comportamentali relazione volemose bene l'uomo al centro si divertono tutti a dirlo però il principio di base è questo la cosa interessante è che tutti e tre i modelli poi alla fine usano gli stessi strumenti li vedremo nei tre esercizi vi faccio vedere alla fine tutti e tre i modelli usano gli stessi strumenti il 5S la flowline il pool il kanban il supermarket tutti usano gli stessi strumenti è un po' come dire tutti noi abbiamo il martello il cacciavite a casa c'è chi lo sa usare bene c'è chi lo sa usare male col martello ci puoi fare tante cose col cacciavite ce ne puoi fare tante altre quindi lo strumento è vero che ci sia però devi capire il concetto del principio che vi stavo facendo vedere e a me interessa che voi capiate che tipo di strumento vi serve perché tanto gli strumenti ci sono vado da brico e me lo compro non ce l'ho vado da brico e me lo compro ma se io non so è come la libertà se io sono sempre stato schiavo e non ho mai conosciuto la libertà come faccio a pensare che esista la libertà chiaro quindi devo imparare a capire che è possibile essere liberi se io capisco che è possibile essere libero allora posso mettermi in testa che fra sei anni dieci anni voglio comprarmi la libertà obiettivi di media lunga durata po' che lo affronto in logica Toyota con certi modelli culturali in logica lean perché ok ho capito però adesso domani mattina che posso fare per recuperare 50 centesimi se no la libertà io non me la posso comprare piuttosto che il world class che mi dice io volere andare in libero quindi io fare A B E C mettere in piedi bo-bom 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 tutti e tre possono divertirsi a fare quello che ci pare alla fine le cose sono le stesse è il modo con il quale l'affronti che deve essere tuo perché poi tutte e tre funzionano se il cambiamento lo agisce se no il sogno rimane chiaro io mi fermerei per il caffè grazie a tutti Grazie a tutti. Il docente si entrerà nello specifico di alcuni casi pratici e direi che è importante se si crea anche un po' di dialettica. Quindi il docente parlerà da questo microfono e io girerò in sala e vi allungherò il microfono nel momento in cui voi intendete porre dei quesiti. Non ve l'avevo detto ma questo seminario è oggetto di una audio-video registrazione in quanto Union Camere ha avuto interesse a registrare questo seminario per metterlo sul portale dell'imprenditoria femminile. Per cui quando il prodotto sarà perfezionato sarà possibile accedervi dal portale if-imprenditoriafemminile.camcom.it. Detto questo, per l'attestato come sapete occorre avere almeno due partecipazioni. Ho visto che avete messo data e luogo di nascita per chi è interessato. Chi non dovesse averlo ancora messo si ricordi di metterlo nel foglio delle presenze. Io li preparerò nelle prossime settimane, comunque sarà mia cura avvisarvi per posta elettronica della disponibilità. Però direi che appena possibile li faccio e poi ve lo comunico. Gisella, non so se vuole dire due parole come Presidente del Comitato. Ovviamente questo è il terzo ultimo seminario di questa edizione. Il proposito è ovviamente anche per il 2015 di riproporre questa iniziativa sempre per il periodo autunnale. Il Comitato avrà il compito di scegliere gli argomenti. Ah, ti ho rubato... No, non va, beh, figurati. No, visto che tu sei un'imprenditrice del settore manifatturiero, puoi spiegare tutti gli argomenti di oggi pomeriggio, sono calzanti. Allora ti passo il microfono così ti sento. Scusate l'intromissione, buonasera. Sono stati dei seminari, in particolar modo questo, forse per voi sono un po' ostici, è materia grossa, è materia tosta, però nel grande e nel piccolo ci serve, ci serve signora. Gli sprechi sono la prima cosa fondamentale e organizzare, dalla tua famiglia alla tua fabbrica. Dunque, mettiamoci in mezzo un negozietto piccolo, mettiamoci in mezzo i servizi. Bisogna organizzare la parola spreco con la S grande, quella deve essere il nostro pane quotidiano impresso bene nella mente. I cambiamenti, ne parlavo prima, sono difficili da prendere, però noi, che siamo i titolari d'azienda, che siamo chi deve creare, non il team, ma la squadra, dico bene. Noi che dobbiamo essere coscienti che il cambiamento è difficile, però gli interlocutori che abbiamo di fronte dobbiamo convincerli perché avremo la famosa meta. E questo è, scusatemi, il mio lavoro quotidiano. Sono cinquant'anni che sono nella mia ditta, sono la quarta generazione. Il nonno è partito con un cancello in ferro battuto, ecco qua. E adesso è sport in tutto il mondo. Siamo i due fratelli, caso strano, io mi occupo di produzione di qualità e di acquisti, mio fratello dal lato commerciale. Però le diatribe sono enormi, e quindi è quello lì. Però serve anche questo. Quando si poteva giocare a tennis, gli anni sono passati, più di camminare non si riesce a fare. Grazie di essere qui e spero che l'anno prossimo, mi manca Elena Delifoni, faremo degli altri ancora più interessanti. D'accordo? Grazie ancora. Buona serata. Vado? Parlo da qui, così voi potete parlare dal microfono portatile. Allora, chiudiamo questa panoramica dei tre modelli facendovi vedere quello che noi, nel corso di questi vent'anni ormai di organizzazione, abbiamo un po' messo a punto, soprattutto è un po' quello che commentavamo prima con la Fedri, sulla media piccola impresa dove della gran struttura non c'è. è bello pensare a chi, nel mondo fiat, che possono fare work class manufacturing, perché c'è delle persone che dedicano otto ore del loro tempo a lavorare solo ed esclusivamente sul miglioramento. in una piccola impresa, una media impresa, in un'attività commerciale fai fatica ad avere il tempo per vivere, figurati per andare a gestire in maniera separata i miglioramenti o quant'altro. E' da qui che un po' abbiamo mutuato, nel corso degli anni, da questi tre modelli. Abbiamo iniziato a provare a prendere le cose più carine che ci sono piaciute. Diciamo che ci siamo divertiti a fare una serie di progetti, abbiamo lavorato con tanti nomi. Nel mondo del fashion mi posso divertire a parlare di Louis Vuitton, se vi fa piacere. è stato un nostro cliente, il mondo per i maschietti, la Ferrari, la Ducati. Abbiamo lavorato con le grandi imprese, lavoriamo con le piccole imprese. Vi posso dire che i problemi sono assolutamente analoghi. Quello che cambia, che fa la differenza, è la quantità di ore che sono rese disponibili e la responsabilità che spesso nella piccola impresa è di gran lunga più alta, più importante, più significativa, che nella grande impresa. La battuta che facevo prima di Taiciono, lui si poteva permettere di fare quello che voleva perché non si giocava a soldi suoi. E quindi poteva pretendere, perché tanto non si giocava a soldi suoi. Io imprenditore, che devo pretendere, e nel frattempo devo pretendere dei miglioramenti, e nel frattempo, ma un'ora in più di questa persona dedicata a migliorare, è un'ora in meno di produzione che mi fa. Sì, poi forse mi darà un'ora in più fra tre mesi. Sono i meccanismi perversi sui quali facciamo una gran fatica. Ed è qui che nasce un po' il principio del concetto del change and coach che ci siamo costruiti nel corso degli anni. Perché parliamo di change and coach? Perché indubbiamente il cambiamento va fatto. Il sistema impresa Italia, se continua così, non avrà un gran futuro nel corso degli anni prossimi. e quello che è stato l'elemento chiave dell'industria italiana, del grande boom italiano, degli anni passati, la piccola e media impresa, è quella che sta soffrendo. È arrivata anche stamattina l'informazione della Confindustria, dove le piccole imprese sono quelle che hanno sofferto molto di più. Mentre la medio-grande è riuscita a sopravvivere, la piccola molto di meno. Qual è la logica che ci siamo costruiti guardando questa realtà? E che è vero tutti questi gran principi, sono straordinari, sono bellissimi, sono affascinanti. L'approccio Toyota affascina. L'approccio world class mi piacerebbe. L'approccio lì, anche quello, vai subito al sodo, ci leviamo il pensiero, andiamo subito a portarci a casa dei risultati. Abbiamo provato a metterli insieme. E abbiamo capito che nel metterli insieme, l'unica cosa che puoi fare, lo puoi fare, se le persone hanno voglia. Perché in qualunque punto del processo tu ti trovi, a qualunque livello gerarchico in cui ti trovi, se tu la smetti di pensare agli altri, e pensi solo alla tua realtà, e cosa potresti fare per migliorare il valore al tuo cliente interno? Detti in altri termini, se nessuno rubasse, ci sarebbe bisogno di porte blindate, di carabinieri. se ognuno di noi avesse senza dire ah, ma gli altri rubano, se ognuno di noi incominciasse a dire io smetto di rubare, e se lo facessimo per davvero tutti dall'oggi al domani, dall'oggi al domani tu avresti il cambiamento immediato. All'interno di una realtà aziendale questa cosa fai fatica. Perché io licenzi tutti, no? Facile, però poi e dopo devi addestrare tutti ex novo. Che cosa devi costruire per poter attivare il meccanismo del cambiamento? Devi crearti un piccolo volano interno nella tua realtà aziendale che ha voglia di non rubare e incomincia non solo a dire io non rubo ma a comportarsi in maniera coerente. Per cui non solo non ruba ma incomincia a pretendere che gli altri non rubino. Pretesa che può esercitare dove? Solo a casa propria. Io esaspero sempre il principio e il concetto dell'alibi e delle colpe. Ce l'ho non vale la pena vederlo insieme però cercatelo su internet c'è un bellissimo filmato di Velasco cercate su YouTube Velasco l'alibi dove parla della sua squadra dicendo il problema dei miei schiacciatori è che parlano di alzate fatte male per cui io sto lottando con i miei schiacciatori perché la smettono di parlare di alzate perché lo schiacciatore che dice non riesce a schiacciare bene perché la palla gliela ha alzata male dice ok io la palla non la alzo bene perché chi la riceve l'ha ricevuta male no? vanno indietro e il ricevitore dice io non posso dire che io ricevo male devo dire avversario batti bene perché così batti facile che così io ricevo bene che così quello alza bene e il commento carinissimo vedetelo perché è veramente bellino quel filmato ce l'ho sul mio desktop perché è una delle poche cose che mi piace ogni tanto proiettare in maniera continua io ho bisogno di schiacciatori che schiacciano bene palle alzate male chiaro cioè è la mia lotta continua nel mondo del dream team e poi c'è nella nuova squadra questo è quello che devo fare regolarmente è che devo smettere e sto lottando contro tutti gli schiacciatori che parlano di alzate noi siamo abituati nelle nostre realtà quale che siano grandi medie piccole manifatturieri servizi processi commerciali noi siamo abituati a preoccuparci di identificare la causa esterna a noi che determina la mia mancanza e io regolarmente gli dico scusami i ladri esistono se tu non ti metti le persiane blindate o le saracinesche o non chiudi a chiave la porta non ti devi meravigliare che ti siano entrati i ladri in casa e né te la puoi prendere con la società che non controlla con la ronda di pulizia che con i carabinieri che non vengono figlio o sbaglio e qui nasce il concetto di coach perché questo meccanismo è un processo dove questo nucleo questo volano questo motorino del cambiamento di fatto diventa il coach dell'intera azienda io non posso permettermi il lusso di avere degli esterni che vivono noi viviamo di consulenza però diciamo che dopo due o tre anni se io continuo a stare in un'azienda dopo due o tre anni non sto facendo consulenza sto facendo temporary management ci sta l'outsourcing delle spedizioni è assolutamente analogo no? però non è più un'attività consulenziale è un'attività di sostituzione di competenze non è consulenza è come dire l'allenatore che scende in campo e gioca la partita di allenatori giocatori se ne vedono molto pochi per chi si intende di calcio sono pochissimi giocatori che sono diventati i giocatori che sono contemporaneamente giocatori allenatori e raramente hanno avuto dei grandi risultati anche perché se stai giocando come fai a vedere come fai ad avere l'attenzione sullo sguardo d'insieme nonostante quello che dicono il multitasking non esiste neanche con voi donne chiaro non esiste semplicemente lavori su un argomento e switchi fra due tre quattro cinque argomenti diversi e tutte le volte che io faccio sto ragionamento vi invito a pensare al concetto del pit stop di formula 1 ogni volta che spostate l'attenzione da un argomento all'altro è come quando in corsa in formula 1 io esco per andare a box a fare il cambio gomme quanto dura il cambio gomme sono arrivati a due secondi e otto una cosa del genere scarsi quanti secondi perdo al giro 34 riduci anche ancora di più il tempo portalo a 0,3 millisecondi il tempo tecnico e il tempo che tu perdi dalla tua macchina che sta andando a piena velocità quando riprendi la piena velocità hai perso 32 secondi chiaro un suggerimento che noi diamo regolarmente a tutte quante queste cose quando volete fare il cambiamento l'unico vero modo per gestire il cambiamento per davvero è dedicargli il tempo giusto in maniera assolutamente esclusiva il cambiamento il miglioramento non avviene in maniera spontanea il miglioramento avviene in maniera spintanea claro devo trovare il giusto modo il giusto equilibrio e soprattutto devo fare uno straordinario attività di coaching all'interno della mia azienda perché solo attraverso l'allenamento delle persone il coach è l'allenatore è la guida allenatore coach è quello che tira i cavalli ricordate l'omino sulla carrozza non è il cavallo l'allenatore non gioca le partite ma si incazza come una iena se non vanno all'allenamento di giocatoria l'allenatore è dedicato dedica il 100% del suo tempo a determinare degli schemi di gioco a capire l'avversario a studiare l'avversario a giocare gli schemi per attaccare l'avversario chiamasi analisi del valore per il cliente miglioramento continuo organizzazione aziendale strutture processi competenze di base perché i basilari tirare su con il piedino io non gioco a calcio quindi non sono capace ma fai il palleggio è mia facile e se non ti alleni come puoi pensare di riuscire a fare il palleggio mentre stai giocando la partita se voi non allenate i vostri collaboratori come pensate che possono reagire di fronte a una condizione anomala durante la normale giornata lavorativa da qui nasce il concetto del change in coach che abbiamo tra virgolette messo a punto che poi in realtà è dall'esperienza di questi vent'anni ormai di storia non sono i capelli ma i chilometri che mi diceva Indiana Jones non sono gli anni ma sono i chilometri che mi pesano gli strumenti i metodi cambiano possono cambiare se tu diventi un eccellente giocatore un eccellente martellatore e se poi a me serve uno che sa usare il cacciavite che faccio? quindi non preoccuparti di imparare gli strumenti perché gli strumenti quello che servono te li puoi comprare il global sourcing ci aiuta in questo tipo di processo allora mettiamoci in piedi i meccanismi nei quali io sono il proprietario degli schemi di gioco che servono per migliorare in maniera continua il mio processo fare questo significa dire sostanzialmente che io devo creare il mio concetto di squadra e che in realtà io non ho bisogno di team perché c'è un allenatore che tiene costantemente puntata la mia squadra a ottenere il valore che serve per chi fa allenamento chi fa allenatore a chi allena attività sportive o quant'altro sa che ogni partita è diversa l'una dall'altra certe volte devo giocare ad attacco certe volte di difesa certe volte devo giocare con lo schema XY altre volte il 4-4-2 il 3-3-7 di Nororlandia e via cosa devo fare devo avere delle competenze e delle consapevolezze e quello che noi qua riportiamo è il sapere diventa saper fare se queste cose che tu sai sei capace di farle e quindi diventi consapevole di te stesso se io so di essere bravo consapevole vuol dire che io so di essere bravo non credo che gli altri pensino che io sia bravo essere consapevole di sé vuol dire che a prescindere da quello che dicono gli altri io mi reputo bravo e nei risultati ti dimostro che lo sono non ho bisogno del riconoscimento di altri questo è il concetto di consapevolezza se io sono consapevole di me sono tranquillo e riconosco la bravura degli altri perché perché io se so di essere bravo non mi vergogno di essere meno bravo in altre cose il meccanismo è semplice non è complesso è difficile metterlo in pratica ma è semplice nel momento in cui faccio questa consapevolezza assumo quest'umiltà io mi rendo conto che un altro è più bravo di me a fare una cosa e incomincio a usarlo e incomincio a diventare una consapevolezza del noi ma se io sono bravo a fare una cosa e tu sei bravo a farne un'altra se ci mettiamo insieme siamo bravi a fare due cose siamo diventati più bravi di prima c'era una bellissima frase mi ricordo di chi se uno dà una mela a un altro non hai creato un gran valore perché sempre una mela è se io do un'idea e se io mi scambio un'idea con un altro ho creato valore perché ognuno di noi possiede due idee se io ti do una mela non ho più la mela e quindi la mela è sempre una se ti do un'idea e tu me la dai abbiamo due idee chiaro se smetto di essere cattivo presuntuoso e quindi la consapevolezza del me del se riesce a diventare consapevolezza del noi la squadra è capace di fare più cose ma soprattutto è capace di giocare tutti i giochi che l'allenatore mi chiede di poter mettere in piedi e quindi smetto di essere una squadra che gioca solo d'attacco ma sono anche una squadra che gioca in difesa sono anche una squadra che gioca con lo schema A schema B e schema C e quindi fondamentalmente la mia capacità diventa una capacità di squadra e quindi il mio sapere diventa un saper fare e io vinco perché quello che succede in queste condizioni se l'allenatore è appena appena dignitoso normodotato e fa il suo mestiere che è quello di sapere che cosa l'avversario è in grado di fare se ognuno di noi è normodotato e consapevole del sé ma anche consapevole del noi è difficile non vincere te ci devi mettere proprio la sfiga per non vincere chiaro e perché è importantissimo questo modello perché nel momento in cui faccio questa operazione poiché il valore ogni sacrosanto giorno si sposta perché come dicevo prima per poter riconoscere per davvero il valore del cliente io dovrei conoscere tutti i miei clienti perché ognuno di loro ha il suo proprio personale criterio di valore per cui oggi ho il cliente A domani ho il cliente B il valore per il cliente ha cambiato direzione se io sono una squadra che fa solo una cosa io non vinco sempre se io sono una squadra che sa fare tante cose e l'allenatore è in grado di riconoscere col joystick muove tra le competenze le consapevolezze perché a volte serve il battitore libero a volte mi serve il gioco di squadra a volte mi serve conoscenze straordinarie a volte mi serve una pancia straordinaria chiaro non è che tutto si deve risolvere sempre nello stesso identico modello anzi più schemi ho io a disposizione più modi per vincere ho le procedure ingessano perché perché nella procedura c'è scritto tutto poi non sa leggere nessuno però c'è scritto tutto allora smettiamo di scrivere procedura e creiamo delle conoscenze di cui ognuno è consapevole dell'importanza di quella conoscenza e addestriamo coach addestriamo uso un termine che so che ai foa non piace non faccio formazione in azienda io ho un processo devo addestrare le persone lo so che è brutto perché si addestrano i cani brutto in azienda io ho bisogno di persone addestrate il giocatore di pallone di calcio è addestrato a fare i palleggi è addestrato a fare il dribbling è addestrato a fare le attività per le quali viene pagato per farlo brutto tutto quello che mi pare ma è così se andiamo al sodo della realtà organizzativa è così esiste ed è questo il motivo del sapere e del saper fare che sono due momenti diversi io formo competenze e quindi creo porto in casa un sapere ma una volta che ho portato in casa il sapere io lo devo trasformare in saper fare la competenza di per sé non mi serve ho bisogno di persone che sappiano utilizzare le cose che hanno imparato e per per addestrarli cioè per ottenere questo risultato li devo addestrare hai studiato mo' applicalo non hai studiato e mo' vedi che puoi fare però nel frattempo se no che senso ha a me piace studiare adesso prima no mi piace studiare ma mi piace studiare le cose che poi posso mettere in pratica io litigo sempre con mia moglie che ogni tanto mi dice ma secondo te con questa malattia io che posso fare amore mio io sono ingegnere non sono medico non posso cioè è una cosa che non mi interessa io non me la studio è una cosa che non appartiene al mio modo di essere tu puoi formarmi quanto te pare io non la userò e qui c'è il grande esercizio del concetto del coach perché quando è che io ottengo il risultato vero quando le persone non stanno più lavorando ma si stanno divertendo quando è che si divertono quando il lavoro non è più percepito come dicono i francesi un travaglié no è un travaglio è una fatica lavoro è fatica perché devo faticarmi se invece il lavoro è un divertimento perché perché io sto facendo esattamente quello che mi piace fare io ho imparato certe cose sono stato bocciato l'esame di maturità io ho preso 110 e l'Od in ingegneria in cinque anni non è che sono improvvisamente mangiato pane e acti ma come si chiama quel e acti il fosforo è che prima facevo delle cose che non mi piacevano dopo ho fatto delle cose che mi piacevano tutto un allora se in questo processo perché creare la conoscenza perché io devo distribuire libertà se no faccio fatica a capire se la libertà esiste o non esiste una volta che ho distribuito la conoscenza dell'esistenza della libertà io devo trovare il modo di far sì che le persone incominciano a provare la libertà e avere il piacere di usare quella competenza nel momento in cui hanno imparato a usare quella competenza incominciano a lavorare insieme agli altri a quel punto io ho smesso di lavorare mi sto divertendo a fare delle cose insieme agli altri e mi diverto talmente tanto che le so anche insegnare e non diventa più una proprietà del singolo ma diventa proprietà aziendale a me del mago non mi serve niente io voglio normodotati in azienda non mi è mai piaciuto il meccanismo di avere persone eccellenti no voglio dei normodotati se mi dai un normodotato sono sicuro di portarti l'azienda all'eccellenza mi dai un gruppo straordinariamente forte di persone ti posso garantire che o hai un morigno stronzo perché poi diamo a Cesare quel che è di Cesare o hai un morigno che te li tieni a bada ma appena Morigno è andato via l'Inter è crollata gli stessi giocatori che c'erano prima che vinceva tutto hanno dato via il morigno hanno perso tutto chiaro e qui il meccanismo che noi cerchiamo di portare è che di fatto quello che noi cerchiamo di portare in casa è prima di tutto un approccio alla Toyota perché in realtà il cliente per davvero percepisce quello che tu produzione gli dai la macchina se è fatta bene o è fatta male dipende da chi te l'ha verniciata da chi te l'ha montata poi lascia perdere che a monte c'è un progettista che l'ha progettata male ma se è montata male è montata male fine però il passaggio è io non posso mettermi solo aspettare che dall'alto vada a verso e basso io mi devo mettere in mezzo quello che fa la vera differenza oggi soprattutto nella media piccola impresa è il middle management il professional perché è lui che comanda se il middle management non ha la capacità e la voglia di essere esempio per i propri collaboratori il tuo processo si inchioda sapete quante volte noi abbiamo avuto operai che sognavano di fare delle cose e il caporeparto il capoproduzione che metteva i bastoni fra le ruote regolarmente ok allora il lavoro vero nella logica del change in coach è riuscire a far capire a tutti i livelli e in particolare il middle che bisogna incominciare a lavorare per ottenere dei risultati facendo come gli schiacciatori di velasco che devono imparare a schiacciare bene le palle alzate male ed è inutile parlare di alzate perché tu schiacciatore devi imparare a schiacciare questo vuol dire consapevolezza del sé che se riesco a moltiplicarla all'interno dell'azienda diventa consapevolezza del noi se ho consapevolezza del noi l'azienda riesce a fare delle cose straordinarie chiaro? tutti e quattro abbiamo un unico nemico che è lo spreco e da questo punto di vista la parte che mi interessa farvi vedere che è molto americana è il concetto dei sette sprechi perché il concetto dei sette sprechi è importantissimo perché prima ancora che io riesco a capire cos'è il valore sicuramente c'è della roba che è spreco ok? partiamo dallo spreco e provate vi do 30 secondi per scrivere due parole di spreco all'interno della vostra realtà se avete voglia di divertirvi a scriverle che cos'è per voi lo spreco? e scrivetevi nella vostra fogliettina di carta uno o due sprechi che vivete regolarmente all'interno della vostra realtà mancano 20 seconde 15 10 meno 5 meno 4 meno 3 alzate le mani chi è che ha voglia di raccontare gli sprechi della sua realtà chi ha il coraggio chi ha la consapevolezza del sé tale da poter permettere di creare un po' di consapevolezza del noi donandoci il suo spreco vai lei è brava why not so che il mio spreco principalmente è il muovermi il girarmi a vuoto grande cioè alla mattina mi faccio il prospetto la mia giornata è questa devo fare questo 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 ma so che nel tragitto tra qui e lì c'è un buco quel buco non ci deve essere l'altro mio spreco è la consapevolezza di non saper fare come riempire quel cavolo di buco cioè sono proprio cosciente che c'è sono cosciente che devo riempirlo ma non mi viene nessuna idea del come riempirlo cioè non sono in grado di arrivarci più spreco di così è un vuoto non è spreco è un vuoto che proprio non non riesco a riempire attività è un'attività un po' particolare è un'attività diciamo che mi sono inventata quest'anno io giro con un frugone ambulante e vendo detersivi alla spina comprati direttamente alla fonte quindi lo spreco del tragitto delle confezioni del rappresentante non esistono più e quindi riesco a dare un ottimo prodotto di qualità a un prezzo inferiore la difficoltà di questo mestiere è che non sono conosciuta cioè sto imparando a muovermi che non sono mai stata di questo mestiere quindi quando proprio annuivo a tutto quel che i titolari non ti considerano che i titolari e le tue idee non te le danno che però dopo scopri che le hanno fatto con le tue idee e hanno raggiunto l'obiettivo questo fa impazzire cioè non sono io il problema non mi ha fatto impazzire perché sono stata licenziata e quindi ho detto allora non ero io il problema cioè io sono stata fonte di guadagno per loro e allora adesso lo faccio per me cioè non è più giusto che io butto via tempo per gli altri e quindi insomma è un po' fatica muoversi in questo settore anche perché è un vecchio mestiere ma rimodernizzato e non è la riflessa fa il noleggio e il cash sharing sono due cose sempre noleggio di auto è vero è vero ne parliamo fra cinque minuti di queste due ipotesi perché sono due esempi di spreco nelle organizzazioni chi altro ha voglia di dirlo? aspetta aspetta devono registrare la voce lo spreco da me sono le attività che non sono perfettamente coordinate cioè le procedure ci sono se fossero seguite bene non ci sarebbero gli sprechi c'è anche la formazione però probabilmente non è fatta in maniera adeguata questo da noi è un grosso spreco cioè ritornare a rifare le cose che tipo di azienda è? noi abbiamo un'azienda metalmeccanica quindi ripariamo del materiale con un processo dall'entrata all'uscita perfetto e a volte l'attività si intoppa e si ritorna a fare le stesse cose meno male che sono avvolta chi altro ha degli sprechi da evidenziare? io me ne sto segnando io soffro di uno spreco particolare del tipo sento tante volte che perdo tempo a stimolare ragionamenti di gente conformamentis limitata benvenuta sì direi questo maggiormente attività? è una società di ingegneria ma io non sono un tecnico sono vengo degli studi umanistici e che ruolo ha lì dentro? io sono passata da una consulente esterna faccio una premessa che vengo di sono didattica alla base da una consulente esterna a un management più temporary e mi occupo delle iniziative estere e del corporate development ok grazie niente altri? vi bastano questi sprechi o ne vogliamo vedere degli altri? questa è l'occasione ora o mai più come vi dissero un po' di tempo fa rimarrà tutto qui dentro eh sì a parte la ripresa televisiva il fatto che a parte dei dettagli per il resto rimane qui dentro nessuno lo saprà mai come dicono in radio nessuno lo saprà mai ok allora proviamo a vedere cosa hanno fatto gli americans nell'andare a identificare il concetto di spreco così vediamo come andare a ricostruire questi tre esempi quattro esempi di spreco all'interno di questi modelli strutturate perché di fatto se noi prendiamo il mondo ecco lì se parliamo di mi dai io adesso sì sono qui di patetica che mi può camminare pronto allora sì poi intanto adesso per qualche minuto parliamo di sprechi per come vengono identificati nel si legge poco ma ci sono i sette numeri quando parliamo di manufacturing quando parliamo di produzione quando parliamo di processo di trasformazione noi stiamo immaginando un processo che trasforma un materiale in un altro materiale ok quando parliamo di organizzazione parliamo invece di un processo che trasforma che cosa in che cosa se un processo metalmeccanico mi prende una barra e la trasforma in un alberino mi prende un componente elettronico e lo trasformi in una scheda mi prende della chimica e me lo trasformi in un detersivo se io sto lavorando in un servizio sociale se io sto lavorando in un commercio se io sto lavorando in un servizio di formazione è un processo che trasforma qualche cosa o no ci auguriamo di sì ma che cosa trasforma perché con l'alberino è facile una barra in un alberino asporti un po' di truciole e via trasformo informazioni che diventano altre informazioni il sapere e il saper fare sono informazioni conoscenze teoriche in conoscenze operative è un'informazione che diventa un'altra informazione un commerciante trasforma un prodotto quindi l'informazione dell'esistenza di un prodotto in un'informazione di disponibilità di prodotto o sbaglio io devo incominciare a ragionare che esistono le aziende che sono fatti di processi non fatti di attività sono fatti di processi questi processi mi trasformano delle cose devo capire se questa trasformazione aggiunge o non aggiunge valore al mio cliente è chiaro? e allora io devo capire bene che tutte le volte che uso questo processo di trasformazione in maniera sbagliata sicuramente non sto generando valore se la mia macchina è impegnata a fare delle cose inutili sto creando valore o no? entriamo in questo meccanismo e vediamoci quello della produzione perché è più facile perché una macchina che asporta truciolo che sta lì senza avere la barra è evidentemente un spreco il primo grande spreco di questi grandi impianti qual è? è la cosiddetta sovrapproduzione la macchina la faccio lavorare più di quello che mi è stato chiesto dal cliente perché perdo tanto tempo per attrezzarla mi porto avanti con il lavoro è come se io facessi 10 kg di ragù ogni volta che metto a fare ragù poi devo congelarlo poi a volte mi dimentico di averlo a volte lo spreco a volte è venuto un po' una schifezza no? notate come la sovrapproduzione è la mamma di tutti gli sprechi anche perché se io sovrapproduco quell'impianto non è libero per fare quello che magari mi serve adesso o sbaglio se il fornello è occupato non posso usarlo se la macchina è impegnata non posso usarla chiaro sovrapprodurre la più grande manifestazione di sovra di spreco aziendale ed è oltretutto la fonte principale di buona parte degli altri sprechi se io sovrapproduco immediatamente dopo evidenzo in maniera chiara il problema di qualità o no? perché prima di accorgermi che tutta quella roba è andata male devo fare l'intero lotto se quel componente per accorgermi che è andato difettoso me ne accorgo solo al montaggio della fase successiva io devo riparare tutto se io ogni componente lo monto al massimo ne ho sbagliato uno due perché ce l'ho in campo il secondo ok? non solo se io sovrapprodotto ragù 10 kg di ragù mi devo fare il congelatore perché non posso mangiare ragù per i prossimi dieci giorni ok? quindi immediatamente dopo la sovrapproduzione determina una necessità di giacenza piccolo ragionamento quanto costa oggi il denaro? non costa più tanto rispetto a qualche anno fa il denaro costa poco se qualche ventina d'anni fa si parlava che il denaro mi costava un 10-15% l'anno oggi il denaro mi costa 6-5-4 dipende da quanto ce ne avete già in tasca per cui non è più il problema della giacenza non è più un problema finanziario è un problema operativo avere un milione di euro a magazzino avere un magazzino da un milione di euro di giacenza significa avere mille metri 1500 metri quadrati di capannone affittato significa avere scaffali per almeno un paio di centinaio di loculi di posti pallet significa avere due muletti significa avere due operatori io mi metto dentro tutta sta roba e io sto parlando che per avere un milione di euro fermo a magazzino ho 100-150 mila euro di costi oltre quelli finanziari che però quelli finanziari valgono a dire tanto un 5% altri 50 mila euro alla fine oggi un'aggecenza mi costa un 15% mediamente che va da un 10 a un 20 di cui quasi tutti per gestione non per finanziario le persone le persone che devo far girare le pago chiaro quindi un ulteriore spreco è avere giacenza quante volte a me piace cucinare per cui mi diverte per fare esempi di cucina quante volte per prendere quello che ti serve devi svuotare mezzo frigorifero e poi prendi quello che ti serve perché non è tenuto in ordine il frigorifero se il frigorifero fosse ordinato alla Svizzera non dovresti fare una gran fatica è lo stesso identico tema del movimento delle persone avete uno degli strumenti più carini si chiama spaghetti chart perché nella spaghetti chart viene chiamata a livello internazionale spaghetti chart non siamo solo solo italiani che li chiamiamo spaghetti chart nel veronese l'abbiamo chiamato la bigoli chart perché allora ne bigoli quindi spaghetti chart vuol dire prendetevi una piantina del vostro stabilimento del vostro reparto produttivo quello che vi interessa mappare e mettetevi sulla testa dell'operatore e disegnate il percorso i movimenti che fa l'operatore durante un normale ordine di produzione vi dico che mediamente un operatore al montaggio si fa un chilometro e mezzo al giorno di camminata per fare un normale processo di montaggio ben organizzato e posso dire che in maniera abbastanza serena se non fai delle operazioni particolarmente puntuali orientate a diminuire il movimento dell'operatore una buona organizzazione al montaggio sia a postazione quindi a banco chiamiamolo così che a linea che sia linea isola come ti pare però a postazioni mobili sia in un caso che nell'altro mediamente ti fai un chilometro un chilometro e mezzo di camminate faccio esempio banale sulla tapparella della SMEG le linee di montaggio hai tra il mio posto e quello successivo circa due metri e mezzo o tre metri di di linea per 220 forni al giorno quindi io faccio questo movimento e poi faccio quest'altro movimento per 220 volte di quello che ti pare ma stai facendo 2 metri 5 metri per 200 una chilometrata o che croce sto facendo macchietta da caffè quindi piccoli oggetti che metto la stesa da 10 macchinette metti anche mezzo metro a macchinetta sono 5 metri vuoi montare la vite e poi rimontarle dall'altra parte sono sempre chilometri e vi do un altro piccolo dettaglio sapete a che velocità cammina un uomo una donna un muletto e un pezzo di materiale all'interno di una fabbrica vedete mi è fatto questo ragionamento quanta gente che cammina a che velocità cammina perché se sta camminando lo sta producendo cammina normalmente a un chilometro l'ora piano se prende un muletto provate a far ragionare sul muletto tra il tempo di inforcata posizionamento inforcata poi ti fai anche tutto a velocità schumacher come ormai si chiamano i mulettisti schumacher ognuno c'è il proprio nome ma il tempo principale è il tempo di alzata e di frenata è l'uscita al pit stop lascia perdere che ci metti due secondi e mezzo a cambiare le gomme ma perdi 32 secondi perché tra il tempo di rallentamento in entrata e rallentamento in uscita accelerato in uscita perdi il tempo se io sto camminando a un chilometro l'ora e ho un chilometro un chilometro e mezzo di camminata in spaghetti chart io perdo un'ora un'ora e mezza dove la mia attività di montaggio prendi pezzo A prendi pezzo B e monta non lo sto facendo un'ora su otto 15% perché? no 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 attenzione non ti sto dicendo di non andare a fare quello che no no attenzione attenzione l'operaio è preso per fare un'attività di montaggio gli do tutta l'assistenza umana di questo mondo ti do i tuoi tempi morti non mi interessa non sto ragionando attenzione non stiamo facendo un ragionamento ti obbligo a fare tutte le otto ore lavorative no ti levo tutte le ore che io ti costringo di andare in giro il fatto è che io ti metto tutti i materiali dietro il tuo postazione di lavoro non ti obbliga ad andare in giro fai quello che ti pare vuoi andare a fumare 20 sigarette fumatele pure ma quando stai sul banco di lavoro il tuo obiettivo è prendi pezzo A prendi pezzo B attenzione non vorrei essere preso per il nazista di Adolf cioè il ragionamento non è ti do delle scudisciate è che non ti faccio delle attività non ti faccio fare delle attività che non servono camminare non serve non serve se vuoi camminare se vuoi essere pagato per camminare vai sul tapirulana a fine giornata propaghi non è che ti danno i soldi per pagare e fai i chilometri al tapirulano ok allora tu montatore tu che fai trucciolo la tua attività di trucciolo è asportare il trucciolo se in questo momento il mandrino non sta asportando trucciolo e di quello che ti pare è tempo spreco e io devo fare in modo che il mandrino truccioli per 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno quello è il concetto di attività valore sì sì Sì, lo so, io l'odio. Ci sono dei tempi, questi tempi sono stati calcolati, io che ho un'attività manufatturiera da chi mi fa tempi e metodi, mi fa e mi crea il ciclo, lui può andare in giro, può fare quello che vuole a quella percentuale, per quello mi sono permessa di dire no, perché è un chilometro, per esempio per la mia attività non penso che faccia un chilometro, perché in questa postazione c'è questo e questo e qui di fronte, ecco, vedi, dipende da chi mi fa, ha di fronte il suo micromagasino con quello che gli serve per quella postazione, per il montaggio di quei particolari, e io so che in quella linea, a seconda dei modelli, mi escono 10, 12, 13, 5 macchine. Uno dei passaggi principali che noi siamo voluti bene dagli operai, perché l'attività principale è evitare all'operaio di fare fatica, perché se l'operaio fa poca fatica, lavora, perché se sei affaticato fai fatica a lavorare, per cui l'obiettivo principale è della riduzione degli sprechi, è quello che se io ti levo del tempo spreco, poiché tranne rari casi, ma siamo delle persone buone, per cui se non mi fai usare del tempo in maniera sbagliata, io tendo a usarlo in maniera giusta, se non mi fai camminare per un'ora, io quell'ora non sto lì a grattarmi la pancia sul banco di montaggio, monto. E se mi hai organizzato il posto di lavoro in maniera corretta, monto senza fatica, per cui posso tranquillamente montare per 7 ore e mezza al giorno, senza fatica, anzi, godendomi queste 7 ore e mezza che mi diverto a fare magari 50 cose diverse e non sempre la stessa cosa. Perché? Perché le competenze che ti ho portato sono tali che ti consentono di lavorare su tante cose contemporaneamente. E questa è la differenza tra organizzare in maniera, progettare l'organizzazione e subire l'organizzazione. Gli altri sprechi sono facili, il trasporto, le attese, gli superfici, sono quei ragionamenti che facciamo prima sui magazzini che mi costano più ormai in gestione che in costo del denaro. Se esistono i 7 sprechi produttivi esistono anche i 7 sprechi d'ufficio. Gestire l'ufficio significa sprecare. Se è vero che il processo di trasformazione del trucciolo mi trasforma un materiale in un altro materiale lavorato e il processo d'ufficio mi trasforma un'informazione in un'altra informazione lavorata, io posso immaginare che tutta la sovrapproduzione sia sovrapproduzione di informazioni, che il trasporto sia il trasporto di informazioni. Che il percorso operatore sia il percorso delle mail che girano, il giro delle informazioni. E così nascono i 7 sprechi organizzativi dove fondamentalmente andiamo a vedere tutti quelli che sono i problemi che tipicamente soffriamo ogni sacrosanto giorno che ci sediamo sulla nostra scrivania. Sappiate, gli chiamiamo tutti i ladri del tempo, gli sprechi organizzativi sono ladri del tempo. Sappiate che i ladri del tempo spesso rappresentano il 60-70% del vostro tempo. A proposito di tempo, come faccio a levarli? Prima di tutto riconoscendo che non è un tempo perso, non è un tempo morto, è un tempo perso. Il tempo, contrariamente agli alberini che metti a magazzino, le ore non le metto a magazzino. E per quanto io possa essere ricco, non posso comprarmi un'ora in più per fare una giornata di 25 ore. L'ora, il tempo è uguale per tutti. E l'osservazione principale di tutto quanto quest'analisi è che se mi puoi rubare il portafoglio, e io posso anche non arrabbiarmi particolarmente, visto che non c'è quasi niente dentro, se mi rubi un'ora io mi incazzo come una iena. Scusate la iena. Perché di fatto un'ora che tu mi fai perdere, mi fai vivere un'ora in meno. Perché io sono una persona seria, se mi fai perdere un'ora sul lavoro, cerco di rimanere un po' più di tempo per finire le cose che devo fare. Ma questo tempo a chi lo stai rubando? Alla famiglia. Perché io sono un padre affettuoso, un marito non molto, ma un padre affettuoso, quando arrivi a casa stai dietro ai tuoi figli e ti diverti, giochi con lei, giochi con la moglie, alla fine qualcuno perde del tempo. Rubi ulteriore tempo a chi? A te stesso. E le cose che ti faceva piacere fare, non le fai più. Tecnicamente è come se tu mi avessi accorciato la vita. Perché quello che io avrei potuto fare, non posso farlo, perché non ho più ore. Chiaro? Entrate con questo piccolo meccanismo su quelli che sono i ladri del tempo. Incominciate a riconoscere che il lato del tempo è un bastardo che vi sta accorciando la vita. Molto di più della sigaretta. Dicono che la sigaretta fa diminuire il mio, non vi preoccupate. Dicono che la sigaretta fa abbassare un quarto d'ora, accorciare un quarto d'ora della vita. Un lato del tempo te ne ruba ore e ore ogni sacrosanto giorno della tua giornata. Preferisco fumarmi i sigari, infatti fumo i sigari, e ammazzare i ladri del tempo. Ok? I sette sprechi. Avere un desktop del computer organizzato ti aiuta a trovare i file. Se ce l'hai tutte le icone riportate sopra il desktop, quanto tempo perdi per cercare il file che ti serve? È come se io avessi un magazzino nel quale i materiali non sono ubicati e io non so dove sono. Avere le informazioni, ah ma io le ho messe sul mio computer in quella cartella, figlio mio, quell'informazione appartiene all'azienda, non è il tuo computer. Qual è la cartella dell'azienda nella quale devi riporre? Ah ma quella non è aggiornata. E' bravo, se tu l'aggiorni può essere che sia. Viene considerata aggiornata. Tutti i meccanismi che noi ci accorgiamo che siamo portati a fare per migliorare noi stessi, per migliorare il nostro teorico microfase, ma che in realtà porta a un peggioramento drastico del processo aziendale. Vuoi mettere a posto le cose e incominci a capire dov'è che sono i ladri del tempo, se stiamo parlando di ufficio. Perché ho un buco? Perché ho un vuoto? Qual è il motivo per cui si crea questo vuoto? Quali sono le cause che determinano questa presenza di vuoto? Perché se c'è un vuoto o io non ho preso degli appuntamenti o non ho trovato la persona, ma fin tanto che non trovo la persona e non è colpa mia, fattori esogeni, devo imparare a schiacciare bene le palle alzate male, è una palla alzata male, vado rapidamente a riempire il buco trovandomi qualcun altro. Ho una competenza che non funziona, ho una formazione che non va bene. La devo cambiare, perché se insisto con quella modalità sicuramente il risultato quale sarà? Lo stesso. Quindi capisco che secondo me è il modo più bello. Per me sarebbe perfetto quella modalità. Ma se i miei interlocutori non lo capiscono, è mia responsabilità, non è responsabilità loro cambiare. Visto che io ho bisogno che quella persona impara, io devo trovare il modo per che quella persona capisca quello che a me serve. Poi non è così stofisticato e fa niente. Se non è bello, fa niente. Funziona? Vai. Ed è uno dei passaggi chiave che cerchiamo disperatamente di far capire quando si incomincia a lavorare. Quando prima dicevo non dirmi quanto duro lavori, ma dimmi che risultati porti. Se fai tanta roba e non mi porti dei risultati, domandati e fatti qualche domanda intelligente, perché probabilmente le cose che stai facendo sono piene di sprechi. Cerca di capire nella tua giornata dov'è che vanno, quali sono, spesso e volentieri si chiede, fai una raccolta del tempo, ti fai il tuo fogliettino di time management, no? Fatti la tua raccoltina e ogni cosa strana che ti capita, che non è quello per la quale sei stato chiamato in azienda a vivere, cerca di attribuirla a uno di questi sette sprechi. Nella stragrande maggioranza dei casi vi accorgerete che l'informazione è l'elemento chiave. Esistono poi altri due sprechi. Uno è la sovrapprogettazione. Di tutti i... Le funzioni del telefonino. Quante ne usate? Tutta la roba che non usate è sovrapprogettazione. E' roba che hanno messo sul telefonino, che qualcuno ha progettato sul telefonino e che non serve. Quanti dei processi che noi facciamo sono sovrapprogettati? Per chi fa lavorazioni meccaniche ci sono delle tolleranze straordinariamente perfette che non servono a niente. Io ho un caso di tanti anni fa che ho litigato con l'assistenza tecnica, l'Ustel, l'ufficiale tecnico della Nato, perché su una cosa mi voleva far montare un'altra cosa, un cuscinetto che serviva per girare a mano sotto un attacco aereo, un sistema di controllo rotto in elettronica che doveva funzionare solo manuale, non poteva avere... era un cuscinetto a sette sfere e quello a disegno era otto sfere e io non potevo usare quello a sette sfere. A sette sfere ho detto, scusami, io sono sotto attacco con l'impianto elettronico rotto, mi stanno attaccando i cattivi, io sono qui che sto girando con una mano, sto coso chissà se mai funzionerà, perché secondo me quello se ne è da moca e se ne è andato, e tu mi vuoi bloccare l'intero ciclo per questo? Andiamo a parlare di carta fuoribonda e poi ovviamente vincemmo. Ok, la sovra progettazione non serve a niente. Vecchio principio, semplificare, 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 e questo vale sia nei processi industriali, sia nel progettare l'organizzazione aziendale. Più le procedure sono complesse e più non le leggo. Il manuale del vostro telefono è completissimo. Talmente completo che manco per il sogno mi passa di andarlo a leggere. Forse leggo il fogliettino dell'help, come si chiama, quello rapido, al massimo, perché sennò chiedo a qualcuno, ma tu quello hai già usato e mi dici come funziona. Ok. L'altro grande spreco è quello che noi chiamiamo ormai fuoco amico. Andrea Righetti è uno dei miei soci. Cos'è il fuoco amico? Nei film di guerra il fuoco amico cos'è? Io sono in trincea che sto combattendo con gli avversari, chiedo, mandate il fuoco di copertura, il fuoco di copertura invece di coprire e andare oltre, mi copre nel senso che mi cade sulla mia trincea. E' il mio collega che mi spara alle spalle. Esiste in azienda? Ma il nemico dov'è? Dall'altra parte, eh? E' come se io nel doppio tennis incominciassi a dire Oh, lo sai che il mio compagno lì è scarso nel rovescio? Questo è quello che fate quando incominciamo a scaricare la responsabilità sul fuoco amico. Il fuoco amico è incominciare a parlare, io schiacciatore, vorrei incominciare a parlare di palle alzate male. Ok? Facendo un ragionamento sui sette, sui otto, sette, otto, nove sprechi, ognuno si può divertire, il world class per darvi un'idea ne fanno ventuno di sprechi. Perché loro lo sotteriscono. Le identifichi in maniera... Quando parliamo in logica change and coach, o meglio, quando ragioniamo in logica corretta, se è vero che quei nove sprechi rappresentano sicuramente degli sprechi, il mio obiettivo è anche quello di creare valore, non solo ridurre gli sprechi. Perché se io creo valore, è probabile che qualcuno mi compri. Io posso anche aver ridotto tutti gli sprechi di questo mondo, ma se... abbiamo tirato fuori la Ducati, perché ai tempi del progetto Lean la Ducati perdeva. Perché? Perché aveva delle moto e faceva schifo. Avevano ridotto gli sprechi, tutto quello che a te pare, ma la moto era brutta. fino a che non hanno messo delle moto belle, l'azienda vuole anche ridurre gli sprechi. Bellissimo, perché è quello che gli ha consentito di rimanere a galla con il 30% in meno del fatturato che dovevano ottenere, però non hai creato valore. Quando hai cominciato a creare valore, tanto l'azienda è ricresciuta. E questo è l'elemento chiave del principio che dicevo all'inizio. Attenzione che quando parliamo di Lean non è solo ridurre gli sprechi, è anche creare valore. Per creare valore io devo incominciarmi a fare delle domande. Se è vero che quello che il cliente è disposto a pagare, cominciamo a ragionare... Io, questa è una presentazione classica, non sono donne, ma sono maschietti gli orologi. Ci ho pensato ieri, ma era più complicato per me tirarlo fuori, mettere fuori una borsetta o una scarpa, no? Perché a noi maschietti l'orologio è un elemento classico di... La battuta si fa sempre... Attenzione, un orologio, una borsetta, qual è la funzione di una borsetta? Contenere tutto quello che ti passa per la testa, no? Cioè, questa è la funzione della borsetta, come la funzione dell'orologio è darmi l'ora, no? Un orologio che mi deve dare l'ora, quello del cinese che trovo, una volta si diceva che trovano i fustini, no? Rimetteteci per favore, che ci fate un favore, no? Cinque euro? Sono perfetti, elettronici, funziona o non funziona? Non funziona, lo butti, ne prendi un altro, ma l'ora te la prende. Per contenere in una borsetta, non dico la busta della spesa, ma quasi, la shop bag? Eh? Non era la busta della spesa? Quindi, come si chiama quella, la shop, quella... come si chiama la borsetta, la shop bag, quella che va di moda adesso, dai? La borsa... Come? No, no, la borsa, il modello è shop bag, c'è la borsa da spesa, quella che viene venduta piegata, costa 70 euro, 75 euro, adesso mi sfugge il nome, c'ho moglie e figlie che mi stanno massacrando per... Sì, sì, no, tanto che esiste. La sua storia è una storia che è la borsa della spesa, come quella della coppia che avete borsa della spesa e che un po' alla volta è diventata borsa trendy, costa 70 euro. Viene venduta piegata come quella della coppia, perché aveva la stessa identica funzione. Mi sfugge il nome di quella marca, ma no, mi mando un sms a mia moglie, mi faccio dire. Quanto vale una borsa del genere? Pochi euro. Io ai maschietti dico quanto vale l'orologio che hai al polso? Quanto vale la borsa che avete nella vostra... La differenza fra questi 3 euro, 5 euro, 10 euro e il valore della borsa che avete lì è il valore che voi avete riconosciuto a quell'oggetto. Io dico sempre, per me l'orologio è vero che ha una funzione, ma per me l'orologio non deve neanche... Devo perdere del tempo, si deve caricare da solo, deve aggiornarsi da solo, io non voglio perdere del tempo dietro l'orologio. Per cui mi sono comprato, sputtanato, 350 euro, per un orologio radiocontrollato con batteria solare. Punto. Se quell'altro dice a me l'orologio, mi interessa solo saperlo, mi basta questo. C'è il mio collega Andrea che si diverte con gli orologi e lui ci mette su anche diverse migliaia di euro per avere l'orologio che gli piace. Come con la borsetta, mi compro la borsetta di Prada piuttosto che la borsetta di Carpisa. Il valore percepito è quello che fa la differenza. Se io riesco a percepire questo valore, allora riesco a cogliere il valore corretto. Vuoi identificare bene qual è il valore per il quale qualcuno dovrebbe comprare da te e non dagli altri? Cominciate a porvi la grande domanda ma perché mi comprano? E siate onesti con voi stessi. Perché non mi dite ah, il prezzo a questo, a quello, a quell'altro ma siate onesti con voi stessi e ditemi qual è la cosa distintiva che vi consente di vendervi. Questo concetto del valore è quello che fa la vera differenza. Perché? Perché se io ho identificato il valore allora sono anche in grado di andare a capire come andare a migliorare per attirare dei nuovi. Chiaro? Perché se oggi mi comprano per questo motivo io una cosa che spesso litigo con il dettaglio no? Con chi vende al dettaglio che sia un B2B o un B2 consumer hai mai provato a capire chi sono i tuoi clienti che comprano da te? Ma no perché io posso vendere a tutti come no? Proprio perché puoi vendere a tutti devi capire chi è tra quelli che ti comprano perché ti stanno comprando di più perché vuol dire che tu probabilmente stai soddisfacendo un qualche bisogno specifico di quella categoria mercologica. Ah ma io questa cosa la posso fare anche ad altri? Eh ma ha maggior ragione. Se tu l'hai identificato puoi andare a vendere a tutti quelli di quella nicchia. Perché se tu sei così bravo che il 30% del mercato del territorio ti sta comprando quella roba c'è un altro 60% che puoi andare a cogliere e se sei così bravo con 30% può essere che sei bravo anche con gli altri 60%. Si chiamano nicchie. Diventare leader di nicchie è fondamentale. Perché se poi io sommo tante nicchie divento leader assoluto. Chiaro? Ma se io incomincio a pensare leader assoluto che vuol dire? Che faccio? Dove vado? Che vuol dire tutto? Se io incomincio a ragionare invece che ogni cliente ogni nicchia ogni settore ha le sue caratteristiche quel settore che valore percepisce? Perché mi compra? Che cosa io ho in più rispetto? Che cosa posso dare in più rispetto a delle mie competenze posso dare in più? Chiaro? Fare quest'operazione vuol dire incominciare a ragionare in maniera vera tra riconoscere quello che è attività a valore è quello che viene che contribuisce alla creazione del valore e quello che invece sono le attività non a valore normalmente le distinguiamo vedi l'amministrazione in attività che spreco riducibile l'amministrazione non può eliminarla se no la guardia di finanza si adira però puoi ridurla ci sono certe cose che non servono a nessuno che prima le elimini meglio è ok? Tanti anni fa era facile con i sistemi informativi era sparare sulla croce rossa perché ti creavano quelle stampe con i moduli continui tonnellate chili metri cubi di carta per avere un numerino giù in fondo che è tutto spreco adesso hanno sprecato molto di più perché ti vendono milioni di bit per tirarti fuori una BI che ti dica che quella ha dato e cambiato il tipo di spreco ma sempre spreco quante sono le attività a spreco? se è vero che io faccio se la somma delle mie giornate della mia giornata è fatta da attività a valore attività a spreco riducibile attività a spreco eliminabile perché poi alla fine tutte le tue attività sono classificabili in queste tre modalità quant'è l'attività a valore secondo voi? e non leggetelo proviamo a fare e vedere se è vero scarso 30% dell'attività che fate è a valore scarso se io prendo un lavoro d'ufficio andiamo con il montatore dai che è più facile l'attività a valore del montatore qual è? prendo pezzo A prendo pezzo B e monto prendo pezzo A prendo pezzo B monto prendo pezzo A non trovo pezzo B vai a cercare pezzo B trovo pezzo B provo a montare pezzo B non monto pezzo B perché è rovinato cerca martello per martellare pezzo B trovo martello provo a martellare rompo pezzo A A riprendi pezzo A ho finito pezzo A vai a prendere il carrello del pezzo A provate a ragionare in questi termini e vi accorgete come non è difficile che se io considero l'attività a valore solo quella del montaggio prendo pezzo A e prendo pezzo B e monto l'attività a valore è scarsa il 30-40% dell'attività del montatore ok il controllo è attività a valore o no è perché se io ho fatto le cose fatte bene non devo controllare il controllo è un'attività spreco riducibile tecnicamente eliminabile sono tutti i controlli tutti i controlli il principio vero della qualità è che io devo fare assicurazione qualità perché io smetto di controllare il controllo è uno spreco sono persone che non danno valore se non incominciamo a pensare che il controllo è attività spreco io non metto in piedi sistemi di gestione di assicurazione del processo per evitare dei pezzi difettosi se il pezzo B è difettoso io non riesco a montarlo o io capisco che non è attività del montatore aggiustare il pezzo B e quindi il montatore non sta facendo attività valore il montatore sta facendo attività spreco se il montatore mi deve controllare il diametro e la tolleranza del pezzo B perché se no non entra nel pezzo A e quello è attività non a valore perché non sta montando è quella delicata cambio di prospettiva che è quello che ti fa cambiare proprio il tuo modello concettuale che è un'attività è a valore quando per davvero sta aggiungendo valore il controllo non aggiunge valore aggiunge valore la taratura aggiunge valore il final tuning il settaggio la preimpostazione la predeterminazione ma non il controllo se io prendo un'attività a valore se ragioniamo su un'attività di ufficio registrazione bolle amministrazione più bieca registrazione bolle l'attività qual è? registra bolla prendi bolla digita il numero controlla tutte le attività il numero non lo trovo e non corrisponde l'ordine e il fornitore mi ha sbagliato di riferimento e questo qua e questo lì sono attività a valore o no? no provate a vedere perché se fosse così quante bolle mi registrerebbe una persona al giorno? milioni di bolle chiaro? quante bolle ho sulla scrivania? milioni di bolle quindi vuol dire che l'attività è un po' più lunga chiaro? provate ancora una volta a ragionare su che cosa è il valore ognuno di voi ha la propria caratterizzazione vi faccio questo piccolo esercizio per capire bene il concetto di valore noi usiamo il modello di Cano il modello di Cano è un modello carino di diversi anni fa non è recente ma fa capire molto bene che cosa vuol dire valore in termini propositivi partiamo dal presupposto che andiamo da insoddisfazione grave a soddisfazione a pura delizia forte soddisfazione esiste una serie di cose che tu devi dare l'orologio deve funzionare la borsetta non si deve rompere e questo è un insieme di cose che per quanto tu le persegua al massimo ti danno una percezione ti danno un grado di soddisfazione di accettabilità perché è implicito che succeda quella roba lì poi è particolarmente bella una grado di percezione straordinariamente efficace percepisco una robustezza della borsetta percepisco una puntualità dell'orologio chiaro ma fondamentalmente non mi stai dando niente di diverso per cui io posso comprarti come posso non comprarti ti compro quando la percezione è particolarmente alta la percezione dell'iPhone è talmente alta che mi consente di essere di comprare mi permette di comprare un oggetto che ha strutturalmente un'inefficienza e un'inefficacia si rompe più facilmente degli altri telefoni ma la percezione è tale che va a superare questa fase di potenziale insoddisfazione cosa è chiara ok esistono poi i cosiddetti requisiti espressi la borsetta deve essere bella capiente di forma di tipo A l'orologio deve essere bello funzionante con queste caratteristiche tipo B deve essere subacqueo piuttosto che avere il cronometro ok i requisiti espliciti sono un qualche cosa che tipicamente sono quelli che sono a metà fra il concetto di percezione e di soddisfazione di delizia di se non ce li hai io sono insoddisfatto e non solo percepisco il tuo oggetto come pessimo in una macchina non mi dai le quattro ruote è un requisito le quattro ruote particolari e non le quattro ruote normale non hai quel particolare tipo di mi viene in mente mozzo quello per tenere sulla ruota come si chiama il cerchione non hai il particolare tipo di cerchione mi incazzo perché non ha quel livello di esplicito che mi interessa e considero te azienda produttrice di auto sfigato che non hai quel tipo di cerchione se incomincia ad avercelo anzi mi fai vedere che non solo è quello ma è anche quello quell'altro quell'altro ancora il mio livello di percezione e il grado di soddisfazione cresce ancora una volta qui siamo nell'ambito delle cose esplicite quindi tutti possono più o meno esprimerla in maniera più o meno positiva quindi non sono ancora differenziato rispetto agli altri posso essere più bravo o meno bravo posso essere percepito più bravo o meno bravo cos'è che invece crea la vera differenza è quando io incomincio a fornire un qualche cosa di non esplicito che va la borsetta di Prada la borsetta di Louis Vuitton cosa che percezione che cosa delizia perché sono disposto a spendere 1200 euro per un bauletto no 700 euro per un bauletto Louis Vuitton anche mille quello grande anche mille è un bauletto è scritto un numerino scritto troppo tra l'altro scritto anche male perché dall'altra parte è storto c'è un livello che non è tangible è intangible per questo non si parla di soddisfazione ma si parla di delizia la delizia va nel subliminale va nel percepito in maniera straordinariamente elevata la delizia è quello che fa la differenza tra due aziende che mi danno la stessa cosa io vado da quello che mi delizia tra due ristoranti di due ristoranti che mi danno da mangiare della roba buona io vado da quello nel quale ho il cameriere che mi soddisfa di più che mi tratta meglio che cura degli aspetti che io non ho chiaro? questa lettura è quella che vi serve per capire dove andare a potenziare il vostro valore perché nei requisiti impliciti hanno da starci punto per cui fate il possibile barra l'imposizione e io dico sempre il ground zero senza di quelli sei morto chiaro? per cui l'implicito va riconosciuto identificato determinato perché l'implicito deve essere un qualche cosa che mi costa poco realizzarlo perché? perché non fa differenza per cui devo andare a trovare la massima espressione di ottimizzazione efficace ed efficienza per ottenere quel risultato al minor costo possibile perché non mi consente di differenziare di differenziarmi e quindi di creare del maggior guadagno chiaro? per cui tutti i processi che mi portano a dei risultati che danno dei requisiti impliciti sono processi che devo andare a ridurre all'osso sono quelli per i quali gli sprechi vanno eliminati con un accanimento straordinario perché devo andare a levare tutti i costi superflui chiaro? quelli che mi danno invece i cosiddetti requisiti espressi i processi che mi danno valore di requisito espresso devo renderli rapidi perché perché nel momento in cui mi incominciano a cambiare io devo poterli rapidamente cambiare se io sono uno slow food io ti sto esprimendo ti sto esternando un tipo di processo che è quello il quale tu vieni da me a mangiare e dedichi del tempo al pranzo perché se io ti devo fare un risotto te lo faccio sul momento dico bene se io ho voglia di mangiare rapido non posso andare a uno slow food il mio bisogno espresso è diverso dico bene ma se la gente smette di mangiare rapido smette di mangiare veloce e io continuo a fare lo slow food ho futuro se io non sono in grado di capire di rimodellare i miei processi per seguire i requisiti espressi io non esisto non è che non sopravvivo no perché tu stai facendo come ha fatto la Kodak che non ha creduto nelle macchinette digitali ed è morta è la number one non dimentichiamocelo mai ok per cui il concetto del requisito espresso è che io lo devo andare a prendere straordinariamente in esame perché io devo diventare rapido nel poterlo cambiare perché è perché ogni cliente ha la sua espressione di requisito e quindi io devo poter cambiare rapidamente il mio modello comportamentale qual è quello nel quale io posso essere estruoso il solo processo nel quale posso essere estruoso e poterci anche non essere particolarmente efficace sono i processi che mi danno come risultato la delizia a chi mi delizia le cose che mi deliziano non hanno prezzo la borsetta di Louis Vuitton che ti costa che paghi a mille mille duecento mille trecento euro costa molto di meno ha un percepito straordinariamente di delizia che ti tilla le mie pupille papille in maniera straordinaria no? ma vai sono disposto a spendere quello che ti pare il mio collega che gli piace comprare orologi spende diecimila euro per un orologio è la stessa cosa non è che cambia quindi su quella roba lì io mi posso permettere il lusso di non essere particolarmente efficiente però deve essere straordinariamente efficace perché passare dalla delizia all'agonia è facilissimo ok? per cui nella logica del valore che voi dovete incominciare a ragionare incominciate a identificare in elementi concreti io mi arrabbio molto con quelli che fanno le vision aziendali in cui voglio soddisfare il cliente perché voglio è che c'ho che vuol dire soddisfare il cliente in quanto tempo glielo consegni che cosa gli consegni che quantità in che modelli che listino cioè queste sono le cose concrete vedo gente faccio cose non va bene amiamoci per la vita chiaro guardiamo le cose concrete stiamo bene viviamo insieme no? sono cose che devo andare a vedere il valore io devo renderlo tangibile anche gli elementi di delizia li devo far diventare tangibili il circo soleil li rende tangibili perché ti fa vivere un'esperienza completamente diversa dal circo è tangibile la differenza fra il circo soleil e il circo orfei anche da lontano oltre che dal prezzo ok? per cui entriamo nei case history vi faccio vedere comunque ce li avete nella documentazione se non sbaglio per cui li potete studiare con tutto il tempo che volete ci sono tre case history che abbiamo preso nel settore delle macchine industriali per tanti motivi è il più semplice da spiegare perché il montaggio di una macchina industriale tutti quanti in qualche modo ci abbiamo davanti al naso anche mia figlia di 10 anni che adesso ne ha 15 ha in testa come si costruisce perché a giocare con le costruzioni con i Lego tutti più o meno ci hanno giocato e la fatica nel gestire questa roba è visibile il primo caso che vi porto è il caso di un'azienda che lavora per Tetra Pak che è quella che ci ha fatto entrare in contatto col mondo del world class manufacturing intorno agli anni 2000 dove Tetra Pak improvvisamente decise un'azienda che produce quella parte che è il final folder il brick del Tetra in realtà esce dalla macchina di Tetra Pak esce un tubo è un salsicciotto riempito fino in fondo cioè non c'è un filo d'aria dentro il salsicciotto e due manine due ditine lo tagliano lo incollano e lo fanno così 20.000 pacchetti l'ora stiamo parlando di questa la velocità media di una macchina del genere 20.000 pacchetti l'ora salsicciotti che vengono presi da una macchina che li schiaffeggia e li fa diventare il brick per come voi lo conoscete il brick questa macchina che schiaffeggia si chiama final folder ed è un pezzettino della macchina che sta su questa non è la linea della Tetra Pak che è un'altra ma più o meno si trova in questa posizione verso la fine del processo cosa chiede Tetra Pak Tetra Pak che incomincia da comprare soli pezzi incomincia a comprare anche le macchine complete macchine complete che sono quindi componentistica meccanica ma anche idraulica pneumatica elettrica e incomincia a essere non più dei pezzi singoli ma incominciano a essere da 800 a 1500 componenti per modello su 200 varianti diverse e Tetra Pak quanto tempo dà a disposizione a questa azienda per consegnare immaginatevi dover raccogliere 1500 componenti e lavorarli montarli in circa 200 varianti possibili quanti mesi gli diamo a questa azienda oh quattro giorni non mesi né settimane ma quattro giorni questo è il processo che è nato nei lontani anni 2000 dove i signori di Tetra Pak incominciarono a venire dicendo signori miei io ho bisogno che voi incominciate a migliorare ho bisogno di massima riduzione dei tempi di consegna massima fidabilità della risposta per cui quello che era la condizione originale che era un gran casen dove Tetra Pak gli dava 8 settimane di tempo per produrre per cui loro producevano allotti no? eh? facile ti piace vincere è facile c'è la pubblicità no? e poi la cosa curiosa è che anche a quei tempi con 8 settimane di tempo in anticipo avevo i mancanti avevo il magazzino avevo tutto no? Tetra Pak ha incominciato a rompere le balle e ha incominciato un processo e se prima c'erano due macchine gestite con 20 varianti di volume con 800 e 180 macchine consegnate con un indice di rotazione di 2 sapete cos'è l'indice di rotazione? quanto dura il magazzino se gira 2 vuol dire che tu hai a casa mediamente magazzino per 6 mesi ok? per cui con 180 macchine e 40 giorni lavorativi questa azienda aveva circa un magazzino di 6 mesi dopo l'intervento che ci ha obbligato Tetra Pak e l'intelligenza dell'azienda è stata o salgo su questa oppure il rischio è alto perché da due macchine gestite adesso l'azienda gestisce 6 linee di prodotto diverse da 20 varianti ogni macchina 50 varianti a testa la media dei codici da 800 è diventata 1500 le macchine consegnate da 180 a 430 il littario di consegne è 5 giorni lavorativi di cui uno se lo prende a Tetra Pak per portare in Germania in Austria il montaggio l'indice di rotazione è diventato 7,9 cioè facciamo di più in meno tempo con la rotazione talmente più alta perché? perché i pezzi non stanno mai fermi è semplice non è complicato la roba non è mai ferma i magazzini esistono perché la roba è ferma se la roba non si ferma i magazzini non esistono l'azienda che prima era il 50-60% dell'azienda era occupata da posti pallet ad essere occupata da macchine perché il processo che abbiamo fatto lì da allora è stato esattamente l'opposto di quello tipico del modello occidentale della lavorazione ossia dell'insourcing ho incominciato a portare a casa le lavorazioni perché dovendo fare lavorazioni veloci poiché i nostri clienti i nostri fornitori non ci rispettavano le consegne perché io ci devo perdere la faccia mi porto a casa le lavorazioni faccio anche efficienza sono bravo a gestirle mi gestisco quello che voglio sono io che comando sono io che determinano le regole da quando abbiamo fatto su questo processo la logica di fondo è abbiamo cambiato drasticamente guardate il mondo là stanno lavorando e non è che stanno quello è il mondo di adesso la cosa più divertente che c'è stata in questo processo a proposito del concetto del Shenzhen Coach fu litigate clamorose con il caporeparto responsabile della produzione neanche il caporeparto responsabile della produzione quando bisognava incominciare a fare questo nuovo modello una fatica della Madonna per farglielo fare lo facciamo durante le vacanze estive accendiamo la nuova linea che è questa con quattro postazioni bilanciate per cui usi gli operai addestrati in maniera alternata posso fare da uno a due a quattro macchine in condizioni normali dopo un mesetto di questa nuova vita il responsabile di questo reparto produttivo che oltre ad avere questa linea montava anche altre linee del mondo tetrapec mi chiama dice vieni vieni con me già pensavo a dover essere invece mi porta dietro un piccolo repartino che facevano delle piccole ricambistiche premontaggi per ricambistiche cosa si era fatto lui aveva percepito lavorandoci anche se era un contrario della Madonna il valore aggiunto di questo modello e si era costruito una piccola linea in maniera assolutamente autonoma ed è venuto a quel punto io mi sono messo mi sono commosso se tu da solo ti sei messo in testa di fare una cosa del genere io non faccio più fatica tanto è vero che da quel momento quel momento aveva sbagliato tutto l'aveva modellata male l'aveva dimensionata sbagliata ma non me ne è fregato niente ho detto complimenti hai fatto un lavoro della Madonna e adesso lo mettiamo a posto avvicinandoci piano piano alle piccole cose l'abbiamo cambiata lui non l'ha percepito il cambiamento l'ha vissuto perché se l'è vissuto lui ma da quel momento adesso tutta l'azienda è composta da isole costruite in questo modo in diretta magazzino centrale sparito tutta alimentata a bordolinea gli operatori fanno un metro di distanza dal punto di montaggio i premontaggi arrivano in linea il just in sequence esistono questa roba qui è tutta disegnata e ogni scaffale c'ha la sua roba ogni linea c'ha le sue noi preferiamo avere più linee sempre alimentate e persone polivalenti facendo crescere la competenza delle persone per cui la linea è sempre pronta quando il cliente mi chiede di usarla le persone le sposo in là perché il cliente Tetra o mi usa o mi sta comprando dei prodotti A o mi compra dei prodotti B e se mi compro un po' di A un po' di B io ne metto un po' di A un po' di B perché? perché un'impostazione di questo genere mi consente di lavorare a una persona che mi sa fare tutte e quattro le impostazioni e quindi ho una macchina ogni due giorni piuttosto due persone che mi lavorano sfalsato per cui mi esce una macchina al giorno piuttosto che quattro persone mi escono quattro macchine al giorno due macchine al giorno ok? per cui io bilancio non cambio l'assetto la linea è sempre la stessa che ci lavorano di più o di meno ma la cadenza di ogni singola possessione per ritornare al tema della fatica il lavoro è sempre quello non è che ti cambio la cadenza perché cambio le persone non perché frusto la linea cambio solamente la quantità cioè la cosiddetta linea bilanciata a squadre variabili però se io non la progetto per essere gestita a squadre variabili poi non la posso usare come squadre variabili perché per poter fare questa operazione io devo avere almeno quattro persone che sanno fare tutte e quattro le cose il che vuol dire fare un progetto di formazione di addestramento di competenze e di sviluppo non so se è chiaro che non è mica facile ok nel mio piccolo 70 dipendenti solamente 70 ecco non è un gran che però io sono riuscita a fare questo io ho due linee prima avevo cinque elementi su una linea e quattro nell'altra però causa la crisi ho dovuto ridurre cosa ho fatto ho fatto l'insourcing ho preso dentro il materiale per farmi andare un reparto di carpenteria non posso mica tenermi a casa in casa integrazione scusate per farmi andare l'artigiano che mi sta lavorando disegno allora io ho preso dentro i materiali ho fatto lavorare le mie 15 persone in carpenteria però studiandoci prima sulle due linee io costruisco macchine agricole trinciatrici bracci decespugliatori lunghe le strade collegati a un trattore qualcosa di nostro di ferrarese cosa ho fatto le persone ne ho tolto a una da una linea però ho cambiato la cadenza invece di avere sette macchine ne ho sei adesso e in quell'altro ho fatto la stessa cosa mi sono creata la persona polivalente io lo chiamo così non è il termine scientifico che mi va su entrambe le linee l'anno scorso ho fatto una macchina radiocomandata e ho creato la terza linea che io ho chiamato la linea C lì ho messo la persona che ho tolto dalla linea A che fa un tipo di prodotto e mi viene lì mi è partita le prime macchine gli servivano 8 per 5 circa una quarantina di ore adesso sono arrivata a 30 ore sempre quella persona l'ho spostata nell'altra linea il giochino d'incastro buonasera è il giochino d'incastro scusatemi il termine io non sono tecnica che devi fare in una ditta per poter avere le persone con una formazione che hai fatto terra terra lì per vedere per andare in linea per vedere come fai e poi dopo ecco che mi stanno dando i risultati io non ho ottenuto dei risultati così grandi però il mio magazzino gira 4 volte adesso grazie lo puoi lasciare anche lì mi metto qui guarda non lo spenga che poi dopo non si accende più tanto per dare un'idea dei risultati operativi perché poi alla fine il concetto di concreto è concreto quando si vede sul conto economico tutti i miglioramenti sono veri quando alla fine rimane più soldo in tasca il resto sono finti saving il miglioramento è 100% di consegno on time e il cliente ci stanno provando devo dire la verità ci stanno provando in tutti i modi a sfilare questo tipo di macchina dal nostro cliente sono anni che i buyer di Tetra Pak che si provano senza riuscirci perché è un meccanismo è un modello talmente ormai ben consolidato all'interno dell'azienda che ormai Tetra Pak non si preoccupa neanche più di dare quei tempi che avete visto di salite e di discese perché ogni volta e dai tanto lo fate vabbè facciamolo alla fine è un processo di delizia che è quello che sta mantenendo il rapporto strutturato con un'azienda che gli ha fatto triplicare il volume d'affari quasi a parità di persone se io considero l'equivalenza in full time equivalent di persone comprate che prima avevo come fornitori esterni e che adesso come lavorazioni interne oggi sono a un livello di prestazioni un test FTE full time equivalente assolutamente uguale a prima con il triplo del volume d'affari però con una differenza straordinaria quindi nella marginalità levate levate il variabile e potete capire che cosa significa a parità di persone fare tre voti e l'altra cosa carina è che la qualità è talmente alta che fanno fatica anche a misurarla tetrapac misura è una cosa carina per farvi capire perché tetrapac guadagna perché tetrapac misura la qualità del fornitore sulla base del numero di minuti persi dai clienti per la fermo macchina per causa di un pezzo di quel fornitore perché lo misuri in questo modo perché tetrapac ci guadagna dalla carta che viene consumata da quelle macchine se la macchina sta ferma non vende il cartone dimmi come mi misuri e ti dirò come mi comporto se questo è il tuo modo di misurarmi io faccio così che nessuno dei miei componenti possa mai creare un fermo macchina sulla postazione di lavoro il mio livello qualitativo deve essere concentrato su quei componenti che possono correre il rischio di fermare un fermo macchina perché se io ti faccio quel componente di qualità pessima ho un fermo macchina sul cliente tetrapac mi valuta male e mi sfila come fornitore quindi io posso massimizzare la qualità minimizzando i costi che è quello che a me interessa cioè noi dobbiamo il principio è che noi dobbiamo imparare a usare questi strumenti non solo per abbassare i costi ma soprattutto per alzare il valore perché il margine si fa così chiaro non si fa solo così perché tutte le volte che fai così il problema di fondo è che tutte le volte che fai così ti porti dietro il prezzo ogni volta che abbassi il costo chissà per quale strano motivo si abbassa il prezzo ok andando avanti negli esempi questo ci tengo a farvelo vedere perché è stato in Toyota quindi ci darà soddisfazione di aver fatto i lavori in Toyota siamo parte della Toyota Academy ormai è ufficiale che siamo i loro consulenti nei progetti che loro fanno sul territorio italiano parliamo dell'Academy del Toyota Material Handling la vecchia BT CESAB per capirci la BT quella che noleggia i carrelli non la CESAB che li produce ma quelli che noleggia è una società di servizi la Toyota Material Handling è una società di servizi servizio di car sharing dove il car è il muletto il servizio di car sharing che aveva come obiettivo ricevo il carrello dal cliente lo immagazzino poi a un certo punto viene preparato quando il cliente me lo compra viene collaudato vado nel magazzino del pronto che va verso il cliente Toyota ci chiede di migliorare questo processo devo dire la verità ce lo chiede più per un esercizio che per un bisogno reale perché il processo non era richiesto dal cliente il cliente non aveva particolari insoddisfazioni quando facemmo questo progetto era proprio per una ricerca di miglioramento concettuale dell'intera azienda ci troviamo a lavorare con loro e incominciamo a fare un ragionamento lo vedete dei colori giallo rosso e verde il semaforo ci insegna la logica semaforica ci insegna che il rosso brutto il verde è bello il giallo se notiamo in questo processo l'unica zona verde qual è? è un quinto del processo quindi se io voglio ottimizzare il valore di questo processo cosa devo fare? devo levare tutto il resto sicuramente cosa devo levare? tutto quello che è rosso è da levare o no? si è d'accordo o no? la cosa che spreco la tengo la devo se capisco che spreco la prendo e la butto ok? cosa si fa? e abbiamo cominciato a ragionare esattamente al contrario tanto è vero che se andate su Bologna la Toyota material handling è quella che sta davanti all'Ikea di Bologna proprio di fronte al centro Grand Shop Village non l'ha come si chiama quell'oggetto loro avevano prima la zona ricevimento merci quindi la ricevimento dei carrelli era lato autostrada dopo il nostro intervento era tutto vuoto tant'è vero che loro avevano avuto delle notizie di gente che era preoccupata perché sembrava chiusa l'azienda perché si era completamente svuotata del carrello in entrata perché il ragionamento che abbiamo fatto facendolo capire con loro è che se tu vuoi cambiare vita devi cambiare il proprio modello invece di aspettare che il cliente mi compri il carrello io lo preparo che così quando il cliente me lo chiede è già pronto per cui cosa faccio io riduco drasticamente il tempo di attesa per il cliente non solo le mie persone lavorano in maniera bilanciata a preparare perché preparano senza l'assillo della consegna se io sono assillato da tante consegne o ti allungo i tempi di consegna o faccio degli extra costi di straordinari allora cosa abbiamo costruito ci siamo costruiti delle postazioni nelle quali tutti i carrelli vengono preparati ricevo la merce e vengono preparati quando sono preparati vanno al magazzino pronto quando il cliente me lo ordina va direttamente sul magazzino e lo prende e lo porta via non è ancora non è pronto perché un carrello con una formazione particolare una di quelle sei postazioni che sono sei le postazioni che loro hanno una di quelle sei postazioni è sempre vuota per il carrello che ha chiesto il cliente per cui se io ho dei carrelli che non ho già pronti preparati per la spedizione io ho una postazione sempre libera perché quella è prioritaria rispetto agli altri perché è quello che il cliente chiede le altre sono preparazioni che io posso tranquillamente fare domani mattina perché non me l'ha ancora chiesto nessuno questo meccanismo ha cambiato proprio fisicamente l'azienda perché ha cambiato il flusso perché quello che prima era un accumulo all'inizio del processo è diventato un accumulo alla fine perché lo spazio era poco si è dovuto cambiare la fabbrica per cui il disegno di necessità virtù di disegno è stato completamente invertito una volta disegnato progettato e virtualizzato su una piccola linea pilota postazione pilota e abbiamo provato con una famigliola di prodotti a gestelli in quel modo ha funzionato la prima estate il motivo per cui è stato dichiarato pensavano che fessi chiusa la filiale perché a rientro dall'estate è tutto vuoto lì davanti quelli del territorio abituati a vedere carrelli su carrelli montati lì vicino all'autostrada telefonano chi avete chiuso? chi avete chiuso? chi avete chiuso? è semplicemente non ci sono più perché perché è cambiato completamente il layout interno è cambiato drasticamente gli obiettivi prima io cliente chiamavo dopo 28 giorni avevo la risposta che non voleva dire avere il carrello avevo la risposta che il carrello te l'avrei potuto dare ok e il cliente era anche contento non aveva dei gran problemi vi posso garantire dopo questo modello il cliente in 4 ore ha la risposta e tipicamente il lead time di consegna non è segnato e il lead time di consegna è ridotto drasticamente diciamola così non ci hanno autorizzato a dirlo ora che ci penso il vantaggio qual è stato? è che il parco macchine gira molto più rapidamente per cui ho aumentato drasticamente il business perché se io so di poter telefonare e avere una risposta in 4 ore io mi posso ridurre anche all'ultimo minuto per chiederti e quindi te lo chiedo quando mi serve posso permettermi il lusso di pagare un po' di più posso permettermi il lusso di chiederti anche delle cose strane perché tu anche con una forca particolare alto girato col carrello configurare un carrello è molto complesso posso dire non me l'aspettavo ma è molto più complesso di quanto uno possa pensare per cui alla fine il giro è che loro sono cresciuti in maniera drastica la cosa che a noi ci ha fatto più piacere è che quando il mondo Toyota è sceso per davvero in Italia a vedere il partner appena comprato ci ha lasciato lavorare lì da loro anzi quel gruppo quell'azienda la BT CESAB la vecchia BT CESAB è diventato il Toyota Material Ending Academy italiano cioè lo sviluppo delle competenze italiane è stata dislocata all'interno del gruppo di Toyota che sono i nostri amici di Bonn perché perché il modo con il quale abbiamo affrontato è un modo molto simile al Toyota Way per cui quando sono scesi sono trovati molto vicini con io dico vestito all'italiana e che è molto più carino molto meno formale molto più semplice l'ultimo caso ve lo faccio vedere per un esercizio un pelino diverso è come il primo non cambia niente come Tetra Pak come il progetto Tetra è uguale identico con una piccola differenza che la macchina qui è grande per cui non si può spostare e allora che cosa abbiamo fatto abbiamo iniziato sono 16 metri abbiamo usato la prima slide di Albert Einstein tutto è relativo abbiamo relativizzato la linea invece di muovere la macchina facciamo muovere i materiali per cui il principio è assolutamente l'applicazione è uguale però è esattamente all'opposto del primo progetto dove la macchina si spostava fra le quattro postazioni la macchina è ferma e ognuno di questi tiri che viene giù è il carrello che ogni giorno arriva la roba sta sempre ferma mi arriva la merce e io monto quello qua da loro ci siamo inventati la margherita perché ogni postazione ogni fase di montaggio con i suoi materiali è il petalo di una margherita non so se c'è nella fotografia ma purtroppo non ce l'ho la fotografia ogni fase di montaggio perché è un lavoro che dura circa 15 giorni il montaggio di questa di questa linea io devo sapere e devo sapere che materiali devo portare o no come faccio a saperlo mica ti posso mandare una mail domani manda Mr. Rob visual management alla grande una bella margheritona le 15 fasi di lavoro ogni volta che io faccio un'operazione tiro via il petalo in modo tale che lo do al logistico di reparto che mi prepara il materiale per il giorno dopo per cui a bordo linea ho solo il materiale di domani non sono murato ingessato e io operatore non cammino non devo andare a prendere i materiali in giro ce li ho lì dietro perché qualcuno me li sta portando il vantaggio qual è che la persona che ha le competenze straordinarie che a me servono che è il montatore non fa un'operazione a basso valore aggiunto che è il prelevatore con logistico mi posso permettere il lusso di avere degli interinali non particolarmente evoluti né particolarmente addestrati perché il materiale è costruito a kit in locazioni predeterminate per cui non ho bisogno di un'intelligenza straordinaria e di una competenza straordinariamente sovrappagata per capire qual è il materiale che mi serve in quella postazione non so se è chiaro il passato non è che io ho sovrastressato gli operatori esattamente il contrario io ho fatto in modo di far sì che le straordinarie competenze siano usate laddove quelle competenze servono non ho bisogno di un ingegnere per fare il magazziniere e se ho un ingegnere particolarmente intelligente è meglio che gli faccia fare delle cose intelligenti e non è il contrario ho due vantaggi uso una competenza che già ho e non me la devo comprare secondo lui probabilmente è più contento e forse si sente di lavorare di meno e di divertirsi di più che è l'altro dei grandi obiettivi il nostro motto è guadagnare divertendosi guadagnare poi c'è chi dice divertirsi guadagnando possiamo cambiare le due ma cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia la logica è da una soluzione di aria di montaggio tutta quanta incasinata un'aria tutta stabilita ogni banco ogni linea ognuna di queste cose è una postazione di una macchina con le attività sono ovviamente oscurate per evitare che venga capito chi è di chi stiamo parlando ma fondamentalmente è una progettazione disegnata per fare che cosa per andare il tempo di attraversamento di questa macchina da 45 giorni sono stati 15 giorni ridotto ad un terzo il tempo di attraversamento di una macchina complessa ridurre il VIP il working process da 16 macchine a 6 macchine ha più che dimezzato le postazioni di lavoro necessarie se io ho 16 macchine che devono essere che sono in montaggio ho 16 isole che devo tenere per 16 metri se invece io non vado in montaggio fino a che non ho materiali per incominciare a montare e lo faccio per davvero non è che racconto delle balle io riesco a ridurre il percorso operatore da 557 metri per macchina a 152 nel montaggio da 400 metri per macchina a 165 da 606 a 350 e che significa recupero di ore di montaggio perché ognuno di loro quindi se noi ragioniamo in termini di 1500 chilometri contro 1500 metri contro 400 500 600 la metà recuperato mezz'ora per operatore al giorno chiaro questo è l'esercizio notate che tutti e tre i modelli scusate ma volevo lasciare così brutti tutti e tre i modelli usano le stesse tecniche chiaro e tutte e tre hanno un solo grande obiettivo andare a capire il valore e quindi lo spreco da una parte era valore la macchina ferma dall'altra parte non era valore la macchina ferma talmente non ha valore la macchina in movimento che mi sono dimenticato di dirvelo prima nella prima linea il primo caso quella macchina tetrapack il telaio della macchina viene montato sul pallet di spedizione viene posizionato sul pallet di spedizione in modo tale che quando finisce il ciclo è già pronto per la spedizione se notate sono tutti meccanismi di buonsenso c'è una grande e unica differenza il buonsenso lo applico quando ne ho voglia oggi mi gira bene lo applico domani mi gira male no attivare un modello organizzativo di questo genere quale che sia quale scelta fatela per seguirlo vuol dire che vi portate all'interno della vostra azienda qualcuno che vi bastona tutte le volte che non lo fate lo so che è brutto però così come i nostri figli mi auguro che ogni tanto lo scappellotto viene dato per fargli capire che certe cose non si hanno da fare e così abbiamo bisogno per fare l'eccellenza organizzativa la crescita noi diciamo all'interno della logica del change in coach che esistono tre livelli di crescita un po' come elementari medie e superiori esistono tre momenti che devono essere seguiti in questa modalità io posso anche provare a pensare di scrivere a cinque anni la divina commedia ma l'è difficile e la fai statisticamente hanno detto che se tu butti riesci a tirarlo fuori in un milione uno su non so quanti miliardi di possibilità se vuoi avere una probabilità di scrivere un testo più o meno corretto devi imparare a scrivere le letterine poi le parole poi le frasi poi devi correggere il tuo italiano devi imparare a scrivere un po' meglio sono processi di crescita diciamo il livello principale è l'affidabilità io devo ground zero è l'affidabilità ground zero ci ha aiutato l'11 settembre purtroppo perché il concetto di ground zero è molto chiaro tabula rasa è da lì che costruisce ma se non è chiaro che cosa devi costruire sopra che tipo di fondamenta ci faccio io là sotto per cui è vero ground zero ma se io non mi sono fatto la visione di medio lungo termine il challenge come l'abbiamo visto prima che ti faccio te lo riempio con della con della sappia o ti ci metto dentro dei pilastri per un grattacielo da 200 metri o ti ci metto dentro dei pilastri per una piana nel quale devo far atterrare gli elicotteri è vero il concetto di ground zero che vuol dire affidabilità che vuol dire implicito requisiti impliciti modello di cano io quelli l'ho da fare punto e ti dirò di più non solo l'ho da fare ma ho da fare anche quelli minimi degli espliciti se no non mi ingaggio secondo livello rapido il primo livello è affidabile il secondo è rapido perché rapido perché se io voglio incominciare a soddisfare per davvero il mio cliente io devo andargli a dare rapidamente tutti gli espressi tutti i cosiddetti bisogni espressi che lui mi esprime e se non sono capace di darglielo quindi devo diventare rapido ma per diventare rapido devo fare efficienza in fabbrica perché l'unico modo per essere rapido è che non posso scudisciare né posso raddoppiare il carico di lavoro perché raddoppio i costi non divento rapido cioè tengo a dirlo rapido non può dire che faccio più ti do più cose rapido vuol dire che faccio la stessa cosa in molto meno tempo che vuol dire molto meno costi dopo che sono diventato rapido posso diventare flessibile se tento di diventare flessibile senza aver fatto l'affidabile il rapido la flessibilità non si chiama flessibilità si chiama bagno di sangue si chiama si chiama caos si chiama fortuna con la C maiuscola se riesco a consegnare al cliente chiaro allora il modello da perseguire ogni volta che vogliamo provare a fare le varie cose il concetto di cano ci aiuta in questa chiave di lettura io ho bisogno di garantire che i processi impliciti devono essere efficaci al massimo ed efficienti al massimo stumf costo zero ottengo il risultato migliore devo essere rapido nei processi di nei bisogni espliciti quelli espressi nei desideri che il cliente mi esprime rapido perché i clienti mi cambiano desideri e quindi io sono costretto a cambiare ma se voglio per davvero deliziare io devo creare quel guizzo in più che significa dire essere anche flessibile al punto da generare e anticipare il fabbisogno del cliente anticipare il fabbisogno del cliente noi lavoriamo con gli mp3 perché un qualcuno tanti anni fa si è sognato una cosa inesistente che era il vecchio Sony Walkman il Sony Walkman ha cambiato il mondo molto più dell'iPhone o se vogliamo ha fatto per la musica quello che il buon Steve Jobs ha fatto con la telefonia il Walkman ed è nato contro tutta la volontà del mondo industriale Sony perché il direttore mi ricordo il direttore generale il direttore tecnico della Sony gli piaceva fare correre sentendo della buona musica e poiché a quei tempi la buona musica stereofonica era solo con il radiolone che si vede con i neri i diversamente colorati con degli anni passati stavano là belli così lui non poteva andare a correre con quella bestione in collo per cui si fece fare il Walkman e da lì ha soddisfatto un fabbisogno implicito straordinario di tutti noi l'MP3 è un'evoluzione di quell'oggetto ok signori io vi saluto e vi ringrazio bene grazie a tutti per la partecipazione e alla prossima edizione del ciclo di seminari grazie 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 a tutti